buonasera a tutti stasera su storia locale parliamo della battaglia di Cassino immagini di una vittoria amara l'ultima pubblicazione in ordine di tempo di Mauro Lottici e Marco Marzilli presento l'ospite l'ospite che abbiamo il relatore insomma di scassa Mauro Lottici sono più di quarant'anni che si interessa si interessa della battaglia di Cassino alla seconda guerra mondiale ha raccolto uno straordinario patrimonio fotografico e è nata come una passione poi è andata avanti a un canale YouTube molto bello in cui mette cose rarissime e ha raccolto le foto della battaglia di Cassino in cui si vedono in ordine andiamo qui i carri armati poi si vedono alla dislocazione dei carri armati anche la tattica della battaglia poi Cassino com'era prima della distruzione lo faccio vedere qui lo metto a favore delle camera e quando salvarono le opere d'arte da Monte Cassino poi nella battaglia durante la battaglia ci sono anche scene abbastanza cruente però che tutto sommato rispecchiano quella che era la realtà di una battaglia e anche quelle vanno viste. Il libro si dice la prima battaglia di Cassino il disastro sul rapido il fiume rapido vedete com'è bella questa foto in cui ci sono delle truppe americane impegnate nel soccorso dei dei propri feriti poi andiamo avanti è la seconda battaglia di Cassino quando venne distrutto al millimetro non rimase quasi nulla se non minima parte del monastero di Monte Cassino e ricordiamo ha subito quattro distruzioni nella storia un monastero che risale alla metà del cinquecento nel senso il sesto secolo. No no l'anno mille anno mille. No no dico cinquecento non mille cinquecento post dopo Cristo no sì sì sì. Cinquecento sesto secolo risale al cinquecento venticinque se non vado errato quindi tiene o mille vabbè comunque intorno a quegli anni ho cinquecento venti poverò insomma cinquecento trenta quindi sono mille e cinquecent'anni di vita e mille e cinquecent'anni di vita ha subito quattro distruzioni. Credo la distruzione più brutta sia quella della seconda guerra mondiale. Eccola qui. Vedete com'era ridotto? Vedete? Ora eh lo vedremo lo lo si vede anche nella ma lo vedremo meglio ce lo fa vedere Mauro. Poi la terza battaglia di Cassino ci sono fotogrammi foto eh prese in tutto il mondo perché poi eh Mauro ha col come da provetto ricercatore qual è provetto ricercatore qual è ha interpellato persone da tutto il mondo che hanno combattuto lì. Lì che guardiamo ci sono diversi cimiteri militari. Quello in Sant'Angelo in Teodice ci sta il quello inglese poi a Monte Cassino abbiamo il polacco e a Caira se non vado errato abbiamo il tedesco mentre il francese sta a Venafro e l'italiano sta a Mignano a Montelungo. Nel raggio di. E gli americani sono a Nettuno. E gli americani sono a Nettuno. Però la preso più vicina il senso nel raggio tra Mignano Cassino eh Basso Lazio e Alta Campania abbiamo quattro cimiteri militari però gli americani giusti morti lì sono stati visti proprio a a Nettuno eh però sempre a Cassino sono morti giustamente. Sì sì c'era un c'era un cimitero provvigiorio loro mi sembra dalle parti di Venafro ma poi hanno tutto traslato a Nettuno. Io lascerei la parola a Mauro che ci darà sta bella veramente bella per chi per chi ha vissuto a Cassino ha studiato a Cassino ha amato Cassino ci darà una bella storia eh della della seconda guerra mondiale a Cassino prego eh Mauro. Grazie intanto a te per l'invito a questa intervista conferenza no? Eh tra poco vedremo velocemente la battaglia di Cassino in una conferenza fotografica io eh non sono uno che si mette lì a parlare del comandante che allora tali dettagli col reparto tali dettagli attacca qualcosa ne lo ricordo ma più che altro parlo per immagini e per sensazioni soprattutto. Allora io sono un ricercatore fotografico sulla battaglia di Cassino lo faccio esattamente da trent'anni anche se sono da quando ero ragazzino che era ragazzo che mi interessavo la battaglia. Peraltro vivo a venticinque chilometri dal monastero eh sto nel paese di Ceprano che a suo tempo erano le retrovie tedesche. E niente dagli anni tre, dai sì dagli anni trenta, trent'anni fa nell'inizio degli anni novanta ho cominciato ad andare su e giù per le colline insieme a Marco Mazzilli insieme anche a altri amici sulle colline del campo di battaglia. Non solo ho avuto la fortuna di partecipare eh con sempre con questi amici eh e con alla creazione, alla realizzazione di un museo provvisorio durante il cinquantesimo del novantaquattro. Facciamo una bella esposizione dietro al comune di Cassino durante tutti quei due, tre, tre mesi in cui ci furono tutte le manifestazioni. In quell'occasione cominciò eh chiamiamolo così il mio Morbus Gravis. Soprattutto cominciamo, conosciamo un sacco di reduci. Quando si sparse la voce tra le varie reduci, dei vari fronti, che dietro lì c'era un museo con le loro divise, con le loro armi, con le loro fotografie eccetera eccetera arrivarono e noi ovviamente cerchiamo di avere i contatti eh eh migliori. La cosa strana a volte che a volte si domanda ma come i tedeschi non dicono mai niente se gli fai se se capiscono che tu non sei un pifferaio magico alla fine alla fine eh diventavano amiconi anche loro eh e ci hanno dato parecchio materiale, parecchie testimonianze, parecchie opportunità. Siamo andati in giro per il campo di battaglia con loro che una cosa è leggere un libro e un'altra è quella di mettere il piede sul campo di battaglia. Uno non capisce non capirà mai bene che cosa è successo su quelle colline e in città se non se non ci vai. Le fotografie ti possono aiutare fino a un certo punto ma andarci è un'altra cosa. Fatto sta per farla veloce che il sottoscritto ha fatto come eh autore anzi con degli autori quattro libri fotografici sulla battaglia di Cassino. L'ultimo ve l'ha fatto vedere Armando eh quello Cassino immagino una vittoria amara ma già nel duemila io e Marco Marzilli facevamo il primo libro. Questi testi ve lo dico ormai sono introvabili e difficile trovarli. Il primo è questo che si chiama Cassino immagini della memoria. Anche questo un libro tutto a maggior parte fotografico. Ok si si vede così va bene. Eh purtroppo. la bella camera è bella. Però eh quante pagine sono? Quante foto sono? C'è spiega? Eh quante foto sono? Sono tantissime. Quante pagine sono? Te lo dico perché ecco sono trecento ventuno foto. Eh è un libretto non 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 sottile. Anche se il formato è quadrato. Poi che successe che nel duemila e quattro in occasione del sessantesimo con degli amici aprimo a Cassino un museo che si chiamava Cassino World Memorial come succede sempre con le con le iniziative private e durato fino al duemila e otto però anche gli facemmo un libro questo. Però io me lo ricordo Cassino World Memorial dove stava? Appena uscivi dal casello autostradale puntavi verso Cassino poco prima di arrivare sotto l'abbazia c'era sulla destra una sulla sinistra un c'era un military shop sotto e sopra c'era che era un'altra struttura un'altra l'altra dita e sopra c'era un bar ristorante che si chiamava la Sociara dentro c'era il museo. Se volete vederlo andate a cercarlo nel mio canale YouTube ci ho fatto un video così vi rendete conto di quello che si sono persi i Cassinati. Scusami al casello autostradale i Cassino andanno verso Cassino. Andando verso Cassino facevi un chilometro o due sulla sinistra stava lì. Comodissimo perché tutto il traffico dei pullman che andava e usciva passava lì davanti e alla fine riuscima a fare parecchio successo. Poi purtroppo il padrone di casa lì che gestiva il ristorante non pagava a litigare insomma con il padrone di casa e chiuse tutto. Però contemporaneamente sempre insieme a Marco Marzilli abbiamo fatto anche un altro libro. Questo vedete è un libro enorme che si chiama Cassino da Montelunga alla linea Hitler Cassino ieri e oggi. Praticamente abbiamo fatto un libro dedicato agli scatti ieri e oggi della battaglia di Cassino fino a Roma. Cioè no fino a Roma fino a Roma no. Perché fino a Roma no? Perché il libro che l'avevo impaginato io a progetto, io tutte le mie opere le impagino io perché sono un grafico editoriale quindi. La casa editrice, la era l'editore, disse ma se tu ci metti anche a Roma questo diventa una specie di tomo dell'enciclopedia britannica e separammo Roma da da Cassino. E questi sono i libri che il sottoscritto finale ha fatto. Ce ne sarebbero anche altri con cui ho collaborato ma adesso veramente lasciamo perdere. Un'altra è un'uscita, un'altra è un'uscita. No siamo proprio agli embrioni, siamo proprio agli embrioni. Per non parlare poi che io ho collaborato, sono il consulente ufficiale del museo di Piana delle Orme per quanto riguarda la battaglia di Cassino. E non solo, poi tutti i cartelli dentro al museo di Piana delle Orme, quello che sta a Latina. Lo conosci piuttosto il museo di Piana delle Orme? Ci portai i ragazzi in gita di quelli di Frosinone. Qua nella zona Piedimonte no, ma da Cassino a Frosinone è molto conosciuto e frequentato. Ci sono armati, ci sono un sacco di roba. Ancora di attività suppongo. Sì sì certo certo. Beh ha avuto i suoi problemi con la pandemia però adesso c'è anche perché insomma ma tu hai visto non so quanti anni fa ci sei stato. 2006. Vai vai vai. Hanno aperto qualcosa come 4-5 padiglioni nuovi quindi. Eh no ma è molto bello. Abbiamo un rilievo nazionale insomma. Eh sì è un museo privato. Un museo privato. Eh io tutta la cartellonistica, il 99 per cento della cartellonistica che vedi dentro è roba mia. L'ho fatta tutte io. perché ormai sono come dire a parte entro, esco, faccio come faccio come mi pare lì. Eh beh il museo vale la pena, ve lo consiglio. Ho fatto questa consulenza con loro, ho fatto altre consulenze, ho fatto consulenze per documentario, il documentario di Fabio Toncelli sulla battaglia di Cassino eccetera eccetera. Oh non so hai qualche altra domanda? Sì scusa ma domanda per disattivare il microfono. L'attuale museo che ci sta ora, l'istoriale, è diverso totalmente dalla concezione della World, quello che aveva fatto voi. Guarda, guarda, è stato è stata una cosa ridicola ed è ancora secondo me una cosa un po' ridicola. Perché intanto? Eh, sarà famosa frase sono cattivo, sono cattivo perché quando piatto, piatto ricco micifico, hai capito? Eh? Quattro milioni d'euro. Quattro milioni d'euro. Quattro milioni d'euro. Allora lì c'è stata tutta una cosa multimediale fatta da Rambaldi, quello di E.T. che fece questa cosa qui in cui è tutto multimediale. Addirittura quando loro lo stavano per costruire, i tecnici di Rambaldi che non ci capivano nulla sulla battaglia di Cassino. Vedivano a noi a Cassino War Memorial a vedere cosa, come avevamo fatto e vedevo che facevano foto, prendevano appunti e tutto il resto. Poi hanno fatto questo istoriale qua che io non so, adesso dovrebbe essere aperto. E a te t'hanno chiesto, non è che voglia suscitere problemi, a te t'hanno chiesto una consulenza, qualcosa o non t'hanno ignorato? Il piatto ricco che mi ci ficco non era per me. Però non si fa, non si va bene, non si fa, quante cose non si dovrebbero fare. Prego. No, vabbè, ma di quattro milioni di euro. È venuto Castaldo, come si chiama, il loro primo ministro, quello con i capelli bianchi, quello cancellato alla memoria, tutti i sindaci. È stata una cosa proprio, guarda, tu pensa che quando noi inauguriamo nel 2004 il Cassino War Memorial, c'era il sessantesimo della battaglia, il comune di Cassino non aveva preparato niente, nulla, nulla di nulla. Vennero da noi a inaugurarlo, le approfittarono su, quindi, fasce tricolori, ammessessori, primo cittadino, eh, non ti dico. Però ci impose una cosa, pensa un po' tu, noi avevamo già fatto tutta la cartellonistia e il museo si chiamava Cassino War Museum. No, voi non potete chiamarlo museo. Perché? Ah, perché la vostra è una raccolta. Il museo lo stiamo facendo noi, l'istoriale, dove dentro non ci stava un'arma, una divisa, niente, perché loro non volevano mettere soltanto cose multimediali, ma neanche fosse stato questo. Se uno si mette a valutare quanto tempo quel museo è stato, museo, vabbè, quel museo è stato aperto, è stato in questi ultimi, quindi dal 2005 fino adesso, forse un due terzi del tempo è stato aperto. Ha avuto sempre tremila problemi, la gestione sempre fatta da cooperativi che andavano e venivano. E chi paga i stipendi là dentro, scusami? Guarda, non si salsano. Non lo so. Tu pensa che quando c'è stato il settantissimo anniversario della battaglia, il giorno qui, il giorno, il giorno topico della battaglia di Castino, delle rimembranze, è il 18 maggio. Il 18 maggio capitava in un sabato, era pieno di gente, Castino venivano le autorità, venivano i figli, le famiglie dei reduci, qualcuno ancora dei reduci che ponteva ancora a stare vivo, eccetera, eccetera. E beh, l'istoriale era chiuso. Non ti dico nient'altro. Troppo, quando la politica si mette in mezzo, dice, si mettono in mezzo i soldi, avventizi, gente che non capisce niente, quello il risultato è quello. Comunque andiamo sulla nostra conferenza e ricordiamoci sta battaglia di Castino grazie alla competenza tua che è acquisito in 40 anni di studi. Posso dire che ormai ci stanno amici miei che sono molto più preparati, però loro vanno proprio sullo specifico. Sono bravi a ricordarsi. Scusa un attimo, ma devo bere. Prego. Vabbè, intervengo io, dico, non dobbiamo ricontarci i capi di battaglione, vediamo un po' le immagini quali sono. Allora, cominciamo. Tanto di inquadratura generale di quello che stava succedendo. Ormai la guerra, non se ne erano accorti tutti, meno che l'italiano chiede che la guerra l'avamo persa. Il 10 luglio sbarcano gli alleati in Sicilia, poi salgono la penisola con varie operazioni che vedete benissimo qua nella nella cartina. Quindi prima della battaglia di Castino, qui stiamo parlando del dall'otto settembre in poi praticamente, perché il nove sbarcano a Salerno, questa questa qui, che effettivamente è l'operazione più importante di tutte queste. Ci sta lo sbarco a Termoli, qualche altro sbarco qua e là, ma l'importante è lo sbarco di Salerno e come ben sappiamo un altro po' i tedeschi li gacciavano in mare, ma questo è l'altro. Scusa Mauro, io ignoravo i sbarco di Termoli, ma lo sbarco di Termoli quante persone erano? Erano dei comandosi inglesi se non sbaglio. Ah, lo sbarco di Termoli. Sì, lo sbarco di Termoli, lo sbarco di Termoli. Vediamo dopo. Allora, chi sono questi due signori? No, perché mi manca una cosa a me? Sottenete. Aspetta eh? Ah no, no, c'è, sono io che sono fesso. Allora, chi sono questi due signori? Ovviamente uno è il generale Alexander che è il comandante di tutte le forze alleate in Italia in quel periodo e il suo alter ego è Albert Kessling. Albert Kessling dovrà litigarsi il comando del fronte sud con un certo Erdwin Rommel perché Hitler è indeciso a guidare, a guidare la difesa dell'Italia. Alla fine decise, erano due piani completamente diversi. Eh Rommel voleva fare in modo che gli alleati arrivassero fino alla linea gotica, chiamiamola la linea gotica, e poi difenderla da lì. Invece ehm Kessling promuoveva una difesa ad oltranza con le fa con tutte le famose linee di difesa che adesso andremo a vedere. Ovviamente vinse eh come ben sappiamo vinse la gara cosiddetta da vinse Kessling. Ma poi andando direttamente sul campo, chi erano quelli che veramente avevano i guantoni e stavano sul ring? Ovviamente uno lo conoscete sicuramente, è il generale Clark che praticamente si eh si come dire prese tutta la campagna di colpo in quel comandava lui, decideva lui, erano gli americani che decidevano, erano gli americani che avevano l'aviazione, che avevano i cani armati e decidevano loro. Ci stavano anche comandanti inglesi, francesi, polacchi, ma dopo li vedremo. A destra il generale Fridolin von Zenger und Etterling, comandante del quattordicesimo corpo corazzato, un laico benedettino, lui era amico personale dell'abbate di Amare. No, stava sempre, appena poteva lo andava a trovare dentro al monastero, quindi lui aveva una, come dire, una predisposizione e simpatia speciale per Monte Cassino. Eh e se se tutta la linea Gustav era in mano sua, è anche Anzio, chiaramente. E tutto il difendersi così, in modo accanito, e bloccare gli alleati per quei cinque, sei mesi, diciamo che è opera sua. Tenete presente che questo era anche un antinazista. Ci è mancato poco che lo prendevano per la faccenda dell'attentato ad Adolfo Wittra del 20 luglio, eh. Infatti non era molto simpatico alle altre gelarchie tedesche. Perché Cassino? Spostiamoci verso sud e arriviamo sotto Cassino. Vedete qui? Beh, a destra c'è Roma e le varie frecce che indicano cosa succederà. Voglio precisare subito una cosa. Vedete che qua ci stanno le frecce che indicano lo sbarco di Anzio? Ecco, io dello sbarco di Anzio lo accenno soltanto, non dirò niente praticamente, soltanto cosa che Valenza potrà avere in alcune fasi della battaglia di Cassino. Poi nel salire da Salerno verso Roma, gli alleati incontreranno varie linee di difesa. Le prime, quelle più importanti erano quelle che erano state fatte apposta per rallentare maggiormente possibile gli alleati in modo tale che si preparasse la micidiale linea Gustav. Quindi nella parte a sud di Cassino, già in campagna, c'è un paese che si chiama Mignano-Montelungo, ci sono delle colline all'intorno, quella sarà chiamata la linea d'inverno. Gli tedeschi la chiamano, mi sembra, linea Reinhardt. Tutto questo serviva per rallentare in modo che gli alleati si infilassero la testa nel capio di Cassino. Perché gli alleati poi, se ci ci fai caso, qua sopra c'è un'altra freccia che parte da Ortona, arriva a Pescara e poi taglia a sinistra e se ne va bello bello a Roma. Questo non è mai avvenuto. Questo era, come dire, un pensiero strano del generale Montgomery, del maresciallo Montgomery, che per fortuna fu mandato via perché cominciava a fare guai, come poi tutta la storia della Seconda Guerra Mondiale ci ha insegnato. Questa, se tu ci pensi e conosci un po' l'orografia del terreno, è una follia, è una follia proprio. Difficile stare in montagna là. Montagne, lag, fiumi, c'è il Gran Sasso. La conosco bene avendo insegnato a San Menedetto del Tronto. È praticabile. Là addirittura l'autostrada era ferma a quadri, c'è là una zona orograficamente impossibile. Invece, bene o male, dopo Cassino, anzi diciamo che dal Voltunno a Cassino, le colline sono sui lati, lì se viaggi in mezzo alle valli, c'è soltanto i fiumi. Poi quando arrivi da Cassino in poi, io la conosco bene, ci abitano alla Valle dell'Iri. Vedi Arce qua? Arce? Il mio paese è qua sotto, qua. Sepprano sta qua. La conosco bene, lì è abbastanza pianeggiante, soprattutto proprio da Cassino in poi, fino ad arrivare a Ceprano. È molto piatto. Era facile, è talmente facile che però in ogni caso furono i francesi sulle montagne poi a passare per primi. Ma questo lo vediamo dopo. Tutto per arrivare a Roma, perché il signor Clark e gli alleati volevano liberare la prima delle capitali dell'asse, anche se eravamo alleati, anzi, pardon, co-belligeranti. Loro volevano arrivare a Roma, anche perché Clark, che come ben sappiamo era uno che aveva uno scuolo, decine operatori e fotografi dietro che non finiva mai, lui ovviamente sapeva che a giugno sarebbero sbarcati in Normandia e che gli avrebbe elevato tutto l'interesse dei media dal fronte italiano. Oh, beh, questo l'ho già detto prima. Sono le varie linee che vedete, vedete le difese tedesche, linea Barbara, Reinhard, Gustav. Scusami, Mau, ma la linea Reinhard, il centro, quella che stava a Mignano e ho capito. E loro, gli inglesi, allora la linea Barbara e Reinhard per gli alleati è la winter line, la linea d'inverno. Ok. E infatti è del dicembre, tutto il dicembre lì ci saranno i combattimenti, quelli famosi sopra a Montelungo, che poi tardi vedremo, fanno parte di quel periodo lì. Montelungo sta a 20 chilometri, 15 chilometri da Cassino. Saranno 15 chilometri lineatari. E tutto per arrivare sulla costa principale, che già c'erano stati dei combattimenti a Ortona, dove i canadesi incontreranno già i paracautisti tedeschi, che poi andranno a Cassino. Ma poi tutto questo fronte qua, da Ortona fino alla linea del Sangro, diventerà un fronte secondario, anche perché avevano capito che non era inutile sfondare lì. E una cosa, ma la battaglia di Montelungo, cioè ammetto, non sono preparato sulla seconda guerra mondiale, non è il mio campo, ma a battaglia di Montelungo, gli italiani sono morti combattendo contro i tedeschi che stavano dove? Stavano a San Pietro, infine i tedeschi. Guarda, ci arriviamo tra poco. Beh, scusami, allora ci arriviamo. Io ovviamente ai nostri soldati ci ho fatto un po' di qualche schermata, mi sembrava giusto. Certo, certo, certo. Allora, ecco questa collina qui che vedete è il Montecamino. Il Montecamino è la prima delle difese alleate sulla linea, tedesche sulla linea d'inverno. Ma tu è sulla Rocca di Vangro, Montecamino? Montecamino, se tu passi sull'autostrada vai verso nord, e quindi ti trovi poco prima di Mignano, e là sono le colline che stanno sulla sinistra. Ho capito, se quelle di Rocca di Vangro c'è quella da Montecamino... Dietro lì ci sta il paese, quello che fanno l'acqua minerale, come si chiama? Riardo. No, no, la Ferrarelle fanno lì. La Riardo, sì, ho capito. Allora, che ci fa un generale russo sopra il Montecamino? Questo è il generale Vasiliev, che peraltro ho scoperto tantissime fotografie sue fatte qua in Italia. Era una delegazione russa che era stata mandata da Stalin a vedere perché come mai il nostro fronte non camminava, che problemi ci avevamo. E lui tra le varie gire che si fece, andava su questo Montecamino che era, in quel periodo erano gli inglesi a combattere contro i tedeschi, dovebbero tantissime perdite, e lì c'è la famosa collina che chiamavano la collina da un milione di dollari, perché erano non so quanti colpi di artiglieria ci avevano tirato sopra. Il generale Vasiliev quando, tra il fango e le trincee, a visitare il campo di battaglia. Tieni un piccolo aneddoto, nel cimitero del Commonwealth di Cassino, quello che dice Sant'Angelo in Teodice, c'è una tomba di un soldato russo, l'unico che sta lì con la sua bella stella, che è morto proprio sul camino mettendo un piede su una mina. Ha la gher come la gher, che vuoi fare? Ed era chi era quello che è morto? Era un soldato russo, un suo ufficiale, un ufficiale di Vasiliev. Che aveva messo un piede su una mina. Tu vai al cimitero del Commonwealth, c'è questa l'unica, le varie tombe che sono tutte uguali, non l'hai mai viste, c'è una che c'è una stella, c'è un nome lituano. Ho capito. Allora, non solo gli scontri ci furono sopra al cammino, ma la collina a fianco era la defensa, quella famosa del film La Brigata del Diavolo con William Hulton, non so se te lo ricordi. La First Special Service Force era un reparto specialistico, era una brigata misto canadese-americano che era specializzato nella guerra di montagna. E lo mandarono a combattere lì. Questa è una fotografia di Robert Capa, pensa te. E qui siamo sulla defensa, egli siamo sulla defensa mentre stanno portando via un loro... E qui arrivano anche gli italiani. Ormai noi eravamo co-billigeranti. E un sergente vedo. Un sergente che sta facendo vedere il nostro Mab 38, arma stupenda, a un altro soldato americano. Essendo un bersagliere, questo è proprio il reparto che poi andrà all'assalto di Monte Lungo. Questo è Monte Lungo. Eccolo. Oh, questo è Monte Lungo. Io ovviamente ormai il mio lavoro è anche quello di mettermi a spulciare i particolari nelle foto. Intanto, cominciamo dall'alto. Queste colline che vedete qua sono la defensa, quelle famose di prima della First Special Service Force, che riusciranno a conquistare. E questa invece è proprio la propagine di Monte Lungo. Qui sopra, tutto con questa tresta e anche più giù, hanno combattuto i nostri bersaglieri. Guardate, la strada che vedete passare qua sotto è la Casilina. Quindi, scusate, a destra si va verso Cassino Roma, a sinistra si va verso Caserta Napoli. Guardate la preparazione del terreno che hanno fatto i tedeschi. Sono mine, sono cose che... No, no, no. Hanno tagliato, per avere campo visivo libero, hanno tagliato tutti gli alberi e hanno fatto un bel fosso anticarro. Lo vedi? Lo vedo, lo vedo, lo vedo. E senza parlare ovviamente di tutti i niti di mitragliatrici che qua non si vedono. Certo. Questo è quello che sono andato a sbattere i nostri. Eccoli qua, anche se questo ormai, io ho parlato con i reduci del battaglione che sta. Ma anche questa ci hanno fatto fare una posa molti giorni dopo. Noi abbiamo... C'è anche il filmato di questo. È una posa. Questa famosa foto è una posa. Però sono state fatte proprio lì sul Montelungo. Sì. Però purtroppo qualche mese dopo, cioè anche la settimana dopo. Eh sì, sì. I nostri, è vero, furono massacrati perché c'è tutta una storia. Perché? Perché i nostri furono massacrati? Questa è una bella domanda. C'è strategia? Ci fu uno sbaglio di qualche ufficiale? No, 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 no. Fu una questione che loro avanzarono verso il fine tedeschi. Adesso la faccio breve. Avanzarono solo per le scrine di Montelungo protettiva dalla nebbia. Ah, com'è? Andarono a infilare avendo i tedeschi davanti, dietro, di lato. No, no, dietro no, perdono. Davanti, a sinistra e a destra. Lo si infilarono. Era una missione suicida. Non sapevano, non c'era stata ricognizione. Ah, no, capito. Quindi loro non sapevano. Allora, sono andati sopra, no? Dopo che ci stava il fuoco dell'artiglieria dei nostri mortai, infatti sopra ci sono trovati i codoli delle bombe da mortello italiane, i codoli proprio. Sono molto diversi dagli altri. Ti infilarono lì dentro e è successo che c'era avuta la nebbia salzata, no? E lì hanno cominciato la carneficina. Un macello che non finisce. Tieni presente anche una cosa che la tattica dei tedeschi era quando che appena i nostri si ritirarono i tedeschi fessero subito un bel subito il contrattacco immediatamente. È una tecnica di combattimento tutta che sono inventati loro già anche nella prima guerra mondiale. Ti attaccano, li rispingi e gli fai subito un bel contrattacco. Capito? Così li prendi anche sotto shock, impreparati e in fuga. A distruzione praticamente. Allora, veniamo a San Pietro infine. Questo è San Pietro infine. San Pietro infine è diventato famoso per il documentario film di John Huston. Qui ha combattuto la trentesesima divisione Texas. Il paese che vedete sopra è adesso, tutte queste macerie non le vedete più, questa è una fotografia dell'immagliato dopoguerra. Tutte queste macerie non le vedete più, ma non perché non ci sono, sono completamente coperti dal verde. La natura si è ripreso il paese. San Pietro infine ora sorge giù e non ci sta più. Là potremmo fare un museo a cielo aperto perché... Ma c'è già. Allora, c'è un museo sempre fatto da Rambaldi, non dico nient'altro, no? Però sfruttano molto, mi sembra anche giusto, che è anche più bello, più bello, più drammatico, il museo quello da cielo aperto. Io qua ci sono stato tantissime volte. La prima volta che ci andai, riuscii a trovare, correndo anche qualche rischio, perché lì era tutto traballante, mi infilai in una cantina sotto, no? In questa cantina trovai subito due taniche americane, no? E poi anche dei superlettili, piatti, forbici, abbandonate lì da anni. Io ci sono stato nell'88-89, la prima volta. E' martoriato come paese, non meno di Cassino, vedo. E' stato... Assurdo perché Cassino è per la ma se anche l'infino lo vedo pure il martoriato. Sì, solo che alcune zone di Cassino, adesso esistono ancora zone di Cassino sulle macerie, ma non le vedi perché sono sotto il verde, gli alberi sono cresciuti. Lì non sono più ricostruiti. Come hanno fatto qua? Niente, qualche cosa è stata usata come stalla, ma per il resto è tutto abbandonato. Allora, gli americani avanzano, gli alleati avanzano. Per far capire l'orografia del terreno. Chi avanza non ha un terreno preparato, nel senso di trincee, buche. Si trova alla ghiaccio, come questi soldati americani, sul Monte Pantano, sulla catena delle Mainarde. Vedete, l'unico riparo che hanno questi fanti qua, anzi sono stati pure affortunati, che hanno trovato questi muretti a secco. Quindi erano tutti esposti ed ebbero tantissime perdite. Lì addirittura, in una occasione, infatti questa è anche un'altra foto di Robert Capa, Robert Capa andò con loro in prima linea e in altro po' si beccava una bomba di mortaio mezzo ai denti. Uno vicino a lui morì, l'altro vicino a lui ebbe un braccio o una gamba staccata. Lui si salvò, in quel giorno si salvò Robert Capa. La situazione orografica era quella che vedete, sassi, pietre, se ci arrivi e non hai preparato stai lì sotto alla sferzata del tempo e soprattutto nelle bombe tedesche. Invece i tedeschi si stavano preparando tutto quanto con calma, abituati anche dalla prima guerra mondiale. Guardate un po' qua cosa si fabbricavano i signorini. Nelle subito retrovie tedesche c'erano questi alloggiamenti qui. Diciamo che è mille volte meglio vivere così che con la testa scoperta, o no? Quindi avevano le loro buche, i loro baracchi, i loro ospedaletti di primo soccorso, eccetera, eccetera. E non è che dovevano star lì a fabbricare chissà che cosa. Prendevano il materiale della zona, legno, sassi e pietravi e via. E facevano quello che dovevano fare. Questa invece è sempre un'attricchia tedesca, in Italia ma non so dove. Vedete che hanno scavato nella roccia, hanno avuto il tempo di scavare nella roccia e prepararsi un cunicolo fatto a zeta, come si usava nella prima guerra mondiale, in cui ovviamente è molto diverso da quegli americani che abbiamo visto prima. Una cosa che avevano fatto subito gli Stati Uniti, il corpo dei segnalatori, è quello di studiare come erano fatte le trincee tedesche. Guardate qua. Le trincee tedesche, anche quelle sopra Monte Cassino, intorno alla Bazzia, erano fatte di sassi, legna, la mera ondulata. Guardate lo schema sotto dello studio che ha fatto l'intelligence, della stessa trincea che vedete sotto, vedete gli vari schemi di come sono state fatte. Le trincee a Monte Cassino erano tutte così. Tenete presente che a Monte Cassino, sto parlando ovviamente della parte alta ma anche in città, forse di bunker giù in città ce ne stavano due. Ma sopra erano tutte fatte a questa maniera. Però i tedeschi avevano avuto il tempo, e anche la manodopera italiana, per poterle fare. Questo paese qui è Viticuso, un paesino microscopico, come si vede anche dalla fotografia. Fu occupato nel dicembre del 43 dal corpo di spedizione francese, quello famoso che ne parleremo dopo per i noti e misfatti. Viticuso sta vicino a Acqua Fondata. Vado a Brai, scusa di te rompo dieci secondi, sto facendo una tesi di dottorato sul brigantaggio in età napoleonica. Viticuso è la patria, era la patria, di Vincenzo Matera, grande brigante degli inizi ottocento. Prego, ritorniamo. Ma ci sei stato sopra lì? No, questi cose li sto studiando, infatti sto comprando le mappe dall'Istituto Geografico Militare, ma sarebbe bello andarci tutti quanti, perché sono paesi ormai, credo, due o trecento abitanti. Ma adesso dove, allora, in questa fotografia qua il fotografo se si gira non ha niente. Se ci vai adesso invece è pieno di case. Lo so perché nel nostro libro Cassino Ieri e Oggi abbiamo fatto la fotografia la stessa che vedi oggi, no? Ed è stato un po' di figo il turno perché davanti a questo panorama ci stanno tutte case ormai. Che praticamente per chi non è della zona che non sa le nostre zone qui, è tra Cassino e il Molise, cioè sulle montagne una Cassino e Venafro, la città qua fondata, vidiguso, cardito. Ma è Ciociaria, eh? Ciociaria, sì, bassa Ciociaria, belle zone. Per me anche Ciociaria e Ceprano, Cercano, Frosinone, però è quella è bassa Ciociaria, diciamo. No, no, quella che chiamano terra di lavoro, no? Sì, è terra di lavoro, è la terra di lavoro, una volta era in Ciacetta fino a 1926. Ma c'è una piccola cosa, qui c'è la trattoria dove si mangia da Dio. È un'altra cosa. Arriva il corpo di Spirizzone francese. Questi qua, nonostante il turbante, sono algerini della terza divisione algerina, non sono i Goumier, anche se in un certo periodo arriveranno anche sulle Mainarde, anche i famigerati Goumier. Un po' più avanti, un po' più avanti, un po' più vicino, c'è questa fotografia. Questa fotografia è stata scattata da sopra Valle Rotonda. Il paese che vedi qua dietro lo Sherman è Valle Rotonda. Perché è interessante? Perché ci fa vedere tutta la valle del fiume rapido, questa che vedi nella nebbia. Quindi Cassino sta qua, molto sulla sinistra. Ma la cosa interessante è questo... Scusami, Mauro, qua è da Valle Rotonda verso Cassino. Qua siamo a Valle Rotonda. Il Valle Rotonda è il paese che vedi qua sotto, quindi siamo sopra Valle Rotonda. Quanti metri siamo quindi qua sopra? Mille metri qua sopra. Valle Rotonda mi sa che forse non ci arriva a mille metri. No, 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 è stata scattata la foto. Ah, sì, sì, questa è molto più in alto. Molto più in alto. Siamo sulla strada che poi va acqua fondata. Ho capito, ho capito. Quindi alla Valle del Rapido, questa cresta che vedi qui è il Monte Cifalco. Il Cifalco è stato nella battaglia di Cassino, secondo me, secondo me, non solo secondo me, un chiave di volta che non è mai stata aperta dagli alleati. Perché il corpo di spedizione francese arriverà qui a Valle Rotonda e scenderà giù verso il Sant'Elia Fiume Rapido, quindi direttamente nella Valle del Rapido, sì, del Rapido. Ma non riuscirà mai a conquistare, nonostante che abbia su queste colline che sto segnando io adesso. Hanno tentato, hanno combattuto. Qui dietro c'è la Valle Latina, quindi se riuscivano ad arrivare alla Valle Latina, aggiravano tutto il fronte. Tu lo sai, le conosci quella zona, no? La piavano da dietro, la piavano da riusciti. Era il piano che voleva fare Joen, il comandante francese, no? Ma vedremo che più avanti non lo riuscirà a farlo. Il Cifalco, io qua sopra ci sono stato non so quante volte. Ci si può arrivare anche abbastanza facilmente perché c'è tutta una strada che dal paese di Valle Luce qua sotto ti porta sopra, ti porta proprio qua in cresta. È pieno di postazioni tedesche, di posti d'osservazione. Qui dietro abbiamo trovato ancora le postazioni tedesche fatte a ferro di cavallo, con le riservette delle munizioni ancora lì. Guarda, non ti dico, qui non l'hanno mai conquistata. Ed è stato un grosso guaio perché questo è l'occhio del campo di battaglia. Insieme al Monte Caira, no? E non come pensavano gli alleati dell'abbazio di Monte Cassino, perché pensavano che stavano lì a contrargli le pulci, no? No, gli osservatori tedeschi erano dappertutto, meno che solo a Monte Cassino. Erano qui sul Cifalco, in altre porte, ma soprattutto su Monte Cairo. Monte Cairo, lo vedremo più avanti. È un'alta montagna di duemila metri. Da lì io ci sono stato anche lì, chiaramente. I posti d'osservazione ce ne sanno quante ne vuoi, eh? Quindi è una battaglia fatta in condizioni impossibili, se andiamo a vedere. Il Cifalco? Ma perché loro non davano, gli alleati, non davano di fumogini sempre alla vallata? Ma proprio perché così accecavano la visione dal Cifalco. Qui poi, questa collina qua, questa collina che vedi qua, si chiama Colle San Martino. Qui sopra, che è un posto molto difficile da arrivarci a piedi, si fatica parecchio, c'è ancora un dedolo di trincete e desche che non finiscono mai. È una cosa proprio impressionante. Io collaboro con la pagina di Davolturno a Cassino, non so se lo conosci. Io ho fatto due articoli, tra i miei vari articoli, ce ne sono due. Uno dedica dal Cifalco e l'altro dedica dal San Martino, dove spiego come arrivarci. Andate nel motore di ricerca, scrivete Cifalco, poi scrivete San Martino, dove vi spiego tutto, se uno ci vuole andare. Andiamo avanti. Da Valle Rotonda, a scendere verso la Valle del Rapido, si vede, comincia a vedersi la pianura con Cassino. Quella che vedete qua è la Roccaianola, questo è tutto Cassino qua sotto, il Colle e l'Abbazia, qua dietro il bocco per la Valle del Liri e tutto il campo di battaglia alto. Il cartello della terza divisione algerina dice, non vi fermate perché il nemico vi vede. Siamo nel dicembre del 43, Natale. Sono quelle cose che fanno, come dire, bene a sentirle. A un certo punto nel paese di Cerasuolo ci fu questa messa al campo fatta per il Natale. Dove c'era Cerasuolo? Mi sa che Molise c'era Cerasuolo. A Molise? Mi sa che Molise. Non ci sono mai stato, sinceramente. Nel lato Molise, non è interessante, è una bella chiesa, è grande. Il paese poi, questo qua, quando poi ci sono le telecamere e i fotografi, questa messa al campo è stata ripresa e fotografata in decine di foto, io adesso non sto a farvele vedere tutte, a cui parteciparanno anche dei alpini tedeschi. Sono qua davanti, qua tutto stanno, qua così, in altre foto si vedono. E fece questa, ovviamente per chi era credente, per la parte francese che non era musulmana, parteciparono a questa commuovente cerimonia natale inizia. Vogliamo un attimo alto per farci capire che aria che tira e com'è il campo di battaglia. Foto della famosa Margaret Burke White, la fotografa di Life, questa è l'unica foto in cui la Burke White vedrà Cassino, perché? Ecco il Cifalco, vedete com'è alto? No, perdone, Cifalco, Monte Caira, vedete com'è alto, com'è domina tutto il campo di battaglia. Sono 1650-1700 metri. Sì, insomma, non è uno scherzo. Qui sotto vediamo Monte Cassino, il puntino bianco, tutta la zona del campo di battaglia alto, che poi vedremo, la città di Cassino, qua a destra la Valle del Rapido, di cui abbiamo parlato prima, e questa qui, che è la Valle del Liri, quindi va verso anche il paese mio, Ceprano. La collina che vedete qua, questa specie di pinna, è il Monte Trocchio. È quello che sta in mezzo a quello che si vede nella pianura di Cassino. Sì, sì. Ma sono 200 metri, sono 200 metri. Sì, sì, però è che domina, è una terrazza sull'intero campo di battaglia. Infatti sarà uno dei posti in cui gli alleati vorranno le riprese e le fotografie, sia per il bombardamento dell'Abbazia, sia che per il bombardamento della città. Questo è quello che gli aspetta. E quegli alleati proprio sono andati a infilare la testa nel cappio da soli, proprio. I tedeschi gli hanno preparato il cappio, il patibolo, la forca, il cappio, e loro ci hanno messo la testa dentro. La stessa visione fatta un po' più schematizzata, ma è quella che abbiamo visto prima, vedete, l'Abbazia, tutte le colline alte, uno schema molto distretto di quello che è Cassino, ma Cassino non è così piccolo. Prima battaglia di Cassino, perché la battaglia di Cassino è divisa in quattro frasi. Prima battaglia di Cassino. Fotografia del novembre del 43. La città il 10 di settembre avrà un bombardamento, vedete le case distrutte qui, ma che lambirà il centro. Non ci saranno, ci saranno dei morti, per carità purtroppo, civili, perché non se l'aspettavano. Il 10 settembre la guerra era finita, tra virgolette, no? Invece andarono, gli americani arrivarono, gli alleati arrivarono andarono a bombardare la stazione. La stazione è qui, questo è il lungo viale Dante che è quello che porta la stazione, ma siamo ancora lontani dalla stazione. Ovviamente le bombe di precisione non esistevano e hanno beccato anche parte del centro cittadino. Ma qua è ancora tutto intatto. Vi voglio far notare una cosa. guardate i numeri ai vari posti. Il Villino Colella, questo, ha il 13. La casa del Barone ne ha un'altra. Sono tutti numerati perché il servizio di spienaggio, diciamo così, comincia subito, anche se non si aspettavano, ancora non si aspettavano di sfondare prima, però loro il loro lavoro di andare a prendere tutti i posti possibili lo fanno subito. Questa è l'ultima immagine intera in cui si vede tutta una Cassino ancora intatta. Cosa succede nella prima fase? Ci sono due momenti diversi nella battaglia di Cassino. Saliamo dal basso verso l'alto. I britannici cercano di sfondare sul fiume Garigliano, sulla costa, vicino a Minturno. Riescono a passare dall'altra parte del fiume, poi dopo li ricacciano di qua, in successo, fino alla storia. Lo Tambrosi sul Garigliano. Il Garigliano è questo fiume qui che vede serpeggiare perché il Gari e il Liri diventano Garigliano. Queste altre frecce scure sono, ahimè, gli attacchi dei due reparti americani della trentasesima che tenteranno di passare il fiume rapido. Attenzione, loro lo chiamano rapido, ma in realtà è il Gari. Si sono sempre sbagliati. Molto probabilmente è dovuto alle cartine italiane che gli abbiamo consegnato a noi nella prima guerra mondiale, che erano sbagliate. E questo è il Gari. E' passata la storia come la battaglia del rapido. Io continuo a chiamarla la battaglia del rapido. Verranno massacrati perché non ce la faranno. Riusciranno qualcuno a passare dall'altra parte. E qui c'è una storia lunghissima di una strage in cui addirittura gli reduci porteranno in tribunale Clark per questa storia. Senti una cosa, io siccome ci ho vissuto fino a quindici anni a Sant'Ambrogio sul Garigliano, la britice divisione, la quarantasesima, siccome le acque sono molto, la corrente del Gari è molto forte, il Garigliano scusate, è molto forte, non è come quella voltura. Come transitavano il film e come andavano a guado, cioè quei ponti di bacche. Aspetta, voi lo vedi? Allora, torniamo giù, adesso ci arriviamo. Tra le varie azioni che fecero i britannici giù nella parte bassa ci furono anche delle azioni di commandos, questi sono di commandos, guardate come sono conciati. E questo, indovina cos'è? Qui c'è una zatterona sul Garigliano. No, sul Gari, sul Rapido. Con queste gommoni, ma anche con delle barche di metallo, però il problema è che, come hai detto tu, la corrente era rapidissima. La corrente è molto forte, ciò si chiama Gari. E appunto, come si chiama, i tedeschi ormai avevano capito che stavano arrivando e ovviamente gli mandavano tutto quello che potevano mandargli tra raffiche di MG, come vedi qui, e artiglieria, double warfare e tutto quanto. Insomma, fu una strage. Il numero dei morti, anche se qualcuno sparda le cifre, ma in realtà non si sanno, ma soprattutto i dispersi. Anche annegati, suppongo, anche annegati, persone annegate. Eh sì, 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 perché feriti, caschi in acqua, quando riesci? No, l'hanno morito, l'hanno morito annegato. Ma lì, se tu vai a Sant'Angelo in Diodice, dove c'è il ponte, o vedi sotto l'acqua come tira? Da Sant'Angelo in Diodice verso Santa Pollinare, lo conosco. Eh, tutta la Valle dei Santi. La Valle dei Santi ci sono stato, abita fino a quindici anni, conosco bene il fiume, è molto insidioso e pericoloso, assolutamente, e molto, c'è molta diversa gente annegata, pescatori, c'è molto pericoloso come fiume, insomma, veramente pericoloso, quindi immagino che sia stata una cosa semplice attraversare il fiume. Non è il, la portata d'acqua del Volturno che non è niente nei confronti del carico. No, no, quello, il fiume, molto probabilmente la faccenda che lo chiamavano rapido, era anche tutta faccenda che lo vedevano rapido, cioè che in spagnolo si usa lo stesso termine, no? Per dire veloce. Allora, fotografia di quei giorni, soldati americani assistono al tiro dell'artiglieria che insegue i loro sul rapido, che sta qua, queste case che vedi qua dietro, molto probabilmente Sant'Angelo. Il panorama mostra l'abbazia ancora intatta e il Monte Cairo ancora innevato. Guardate la differenza d'altezza, eh? Siamo tra, a 500 metri circa dall'abbazia e a 1700-1800 quello del Monte Cairo. Eccoli qui, la, 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 questi sono, i morti, i roinschimi, questo, e questo il, che è, è un, non so che questo cosa sia, non è il fiume questo, no? No, naturalmente forse un tracciato dalla ferrovia, boh, non lo so. Ah, quindi è ad Pitten Michael Mignano, Montelungo che le, no, non credo. No, no, questa fotografia è solo loro, che si, quelli della trentesesima, che si ritirano dal dal, dal rapido. Ok. Questa fotografia qua ce l'ho anche in originale, però stavano veramente malmessi portarono Clark in tribunale non so come andò a finire perché Clark era intoccabile anche perché in quel periodo mi sa che stava sul palmo delle mani di tutti e poi continuò a fare la guerra in Corea ovviamente non è che l'abitato di Cassino e Monte Cassino lo lasciavano perdere questi sono i primi tiri dell'artiglieria fatti in quel periodo lì qui siamo nel dicembre no aspetta, l'attacco del rapido ci fu a gennaio cosa serviva? ecco una cosa che mi sono dimenticato di dirti l'idea era quella appunto di far sbarcare i soldati americani ad Anzio perché il 22 sono sbarcati ad Anzio contemporaneamente ci fu un attacco sul rapido e anche quegli altri che abbiamo visto perché distraiamo le forze da Cassino che verranno a combattere ad Anzio questa era l'idea furba che avevano gli alleati noi attacchiamo questi qua si ritirano e già ci sono occupati con noi e non vanno a combattere ad Anzio e noi ad Anzio sbarchiamo prendiamo la la Nettunense e il giorno dopo siamo a Roma come ben sappiamo non è andata così perché? perché ovviamente Kessling e Von Zenger non erano mica scemi loro avevano in giro per il centro Italia un sacco di reparti a macchia di leopardo pronti per essere usati e spediti dove servivano tra cui la Hermann Göring tra cui la prima divisione falsimi Eger cioè mica pizze e fichi eh loro tenivano i meglio divisioni di cui loro disponevano i tedeschi parliamo i tedeschi certo 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 invece i generali alleati sia francesi erano bravi tatticamente le truppe erano brave come le cioè brave insomma tatticamente chiaramente guarda mi dispiace dirlo lo sai insomma i migliori soldati lì erano i francesi i francesi e i Gurka e i Gurka i Gurka quelle cose che le nepalesi che combattivano con la quarta divisione indiana ma i francesi sapevano erano comandati bene ed erano come dire dei buoni e motivati combattenti cioè i ufficiali francesi erano bravi ufficiali i ufficiali francesi e oddio come public relation poi si sono dimostrati quelli che hanno lasciato fare i cavoli comutarsi no 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 parliamo di appuntista tattico appuntista che è successo che è cosa appuntista tattico strategico Chierni cioè loro l'ha detto già l'hai detto e loro adesso io qua ho saltato una cartina a me sa vabbè perché dobbiamo separare le due cose se no non saremo no ma ci arrivo adesso ecco ci arrivo adesso guarda ecco la che è proprio lei questa cosa succede dopo i fatti dei marchi di attacchi sul garigliano e sul rapido che quello che rimaneva dalla trentesesima divisione si aggregò alla trentacontresima divisione e come vedi questo è Cassino vedi salendo ci stanno tutte le colline di Cassino Villa Santa Lucia e le colline che vanno verso Terelle verso Caira i Gubie no pardon gli Algerini sotto l'occhio vigile di Sauron del Cifalco dovevano attaccare per Terelle tu pensa che ci riuscire lì era una cosa impossibile perché tu attaccavi e avevi dietro le spalle il Cifalco certo sì cioè prendi cannoni alle spalle venivi ma dove ti vedeva nonostante i fumogini ma ti vedono no ma poi dopo i tedeschi come mi disse uno di loro che faceva proprio il tiratore dell'artiglieria noi avevamo traguardato tutto sai cosa vuol dire sì traguardato ce lo spieghi in termini vuol dire che ogni punto geografico era tutto schematizzato in modo tale che noi sapevamo alla coordinata lo faccio fare la coordinata x y z no noi sapevamo già come dovevano regolare la nostra artiglieria punto quindi cosa che ovviamente non avevano fatto gli alleati l'avranno fatto dopo ma lì in quel momento no comunque gli attacchi sul Belvedere massacrono una cosa impressionante riescono ad arrivare fino al Belvedere che peraltro era difesa dalla 44esima divisione di fanteria una divisione di fanteria austriaca non alpini erano austriaci diviene la maggior parte che erano tutti reduci non erano come dei sbarbatelli questi venivano da Stalingrado non so se vi spiego riuscirono a conquistare il Colle Belvedere e Colle Abbate ma arrivarono sopra che erano quattro gatti senza munizioni cosa successe cosa fanno i tedeschi contraattacco subito no e li spazzano via e morirono tutti per fortuna molti no perché io con qualcuno ho avuto occasione di non ci ho parlato ma ho visto delle interviste fatte fatte a loro la gente tosta delle facce da da penoir mamma mia immagino poi c'è uno coraggio non indifferente ma poi loro erano le uniche truppe di montagna che avevano a disposizione gli alleati in quel momento voglio sapere che mi interessa particolarmente la Francia i soldati erano algerini marocchini ma il corpo ufficiale gli ufficiali erano quasi tutti francesi e pienoir cioè pienoir però sì pienoir comunque origine francese europea sì 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 origine europea qualche sottoufficiale molti dei sottoufficiali erano algerini o gommier ok ma sono la maggior parte quindi praticamente pure italo-francesi nel senso gente sì sì sono stati se tu vai al cimitero di Venafro qualche nome italiano lo vedi eh e nei cognomi c'è gente che stava lì inizio del novecento fino al metà ottocento molti siciliani andavano verso la Tunisia e l'Algeria insomma ricordiamo no Claudio Cardinale cosa era Tunisia comunque la nonna era siciliana sì sì quelli che abitavano lì molti erano italiani insomma se ne stavano se ne stavano di sicuro quindi successe che l'attacca al Belvedere verso il Montecaio verso Celle fallirono invece ci furono gli attacchi degli americani che riuscirono ad andare alla paesello di Caira che poco a nord è una frazione di Cassino e cercarono di salire verso la valle che poi porta la masseria albaneta di cui ne parleremo più tardi cercando l'abbazia però come ben vedi le frecce qua e tornano indietro perché verranno tutti respinti l'unica cosa che riusciranno a fare è conquistare parte di una montagna di una collina qua abbastanza importante che si chiama Castellone però la quota principale che è quella del Calvario quella dove adesso c'è l'obelisco polacco quella è la chiave di volta del campo di battaglia alto ci sei stato? sì sì lo conosco da là cosa si vede? si vede tutto si vede proprio tutto quella rimarrà sempre in mano tedesca verrà sempre presa e riconquistata presa e riconquistata non ti dico che carnaio ci saranno morti di tutte le nazioni e quindi diciamo che a questo punto la battaglia di Cassino continua questa è una fotografia interessante qui siamo sul Castellone ci saranno delle tregue per accogliere i feriti perché in quel momento non ci sono ancora i paragrautisti ma ci sono gli alpini questi sono anche Birsieger dalla quinta divisione di montagna ci saranno delle tregue per accogliere i feriti gli alpini tedeschi erano preparati come i nostri spirito di corpo arrolati in Baviera sì sì le origini loro anche purtroppo qualcuno veniva dalla ex Jugoslavia dalla Bosnia cosa del genere purtroppo perché hanno lasciato qualche ricordo brutto in giro quelli cioè quelli che esterminavano le persone ho capito molto probabilmente la famosa strage di Valle Rotonda l'hanno fatta loro quante persone morivano a Valle Rotonda? una quarantina bambini anche appena nati vedete questo ufficiale qua adesso non mi ricordo come si chiama questo qua è un colonnello un tenente colonnello vedete che porta uno straccio con una specie di bandiera americana questo signore qua morirà poi ad Anzio ucciso da un colpo di un 88 non mi ricordo come si chiama come è individuato il fatto che è morto ad Anzio? vero perché si sa nome e cognome di questo si sa nome e cognome penso che sia pure per un certo periodo è stato seppellito dell'annettana è tuo qui siamo a Valle Rotonda un long tom che spara direttamente sul Belvedere in quel momento distrutta pure Valle Rotonda non tanto sai è stato di peggio l'arma principale di tutti gli eserciti in quel momento cos'era? il muro dove non arrivavano le jeep i camion e le bisognava portare carichi pesanti ovviamente queste sono alpine tedeschi si riconoscono anche dalla giacca questa si chiama Anorak è un abbinamento caratteristico delle truppe alpine tedesche lo useranno anche i parerotisti però è quella d'alpino con le ceste che vai a capire cosa porta dal Belvedere ci saranno i feriti i gumi e sì gumi algerini che portano via i loro molti feriti voglio precisare una cosa io un po' di militare ha delle divise che portavano nessuno ne capisco a te piace a te piace anche perché la maggior parte degli amici sono tutti collezionisti hanno certe collezioni e la mette paura perché vedi a volte si si confonde perché abbigliamento armi leggere era tutto di origine americana ma l'elmetto questo qui con la cosa in testa sopra è di una delle a volte a volte sì questo è l'atrian francese alcune volte portavano l'atrian però alcune volte portano l'elmetto m1 americano ma si chiama adrian come ermetto l'atrian si l'ha inventato un polacco mi pare che si chiama l'ha inventato l'abbiamo usato anche noi nella prima guerra mondiale ah non lo sapevo pure noi italiani abbiamo usato la prima guerra mondiale avevamo questo non era quello francese noi ce lo fabbricavamo per conto nostro e quindi a volte può generare confusione perché tu dici su truppe francesi ma portano l'elmetto americano e invece sono algerini sono sempre algerini tunisini questi i gumiè invece i marocchini portano quella jalaba quella loro tunica strisce famosa forse dopo lo vedremo qualche divisa sì certo certo lo vedremo la guerra continua Montegassini Montegassini non è che gli americani e gli alleati lasciano in pace l'abbazia qui si vede chiaramente un 105 americano che spara sopra monastero nel monastero succedono anche che viene spesso colpito ci saranno anche dei morti civili vedete questa fotografia con un colpo d'artiglieria caduto vicino al pozzo ed era questo il problema perché i civili che stavano lì dentro andavano a prendere l'acqua al pozzo e molti di questi molti alcuni verranno massacrati da questi colpi d'artiglieria situazione tattica che cosa è successo che cosa è stato occupato fino adesso allora vabbè Monte Cairo e Montecifalco non sono in scala Montecifalco qui è molto più alto hai fatto due bella mappa no non l'ho fatta io l'ho fatta un amico mio si chiama un architetto che si chiama Fran Carcese l'ha fatta lui però per farcela star dentro se lo Cairo doveva sbucare sopra ha messo il Cairo ha messo Terelli ha messo il Cifalco allora il campo di battaglia tutte le colline intorno al monastero il monastero la parte bassa come vedete in realtà gli alleati che ha la macchia gialla si vede la macchia gialla? si si vede bene la macchia gialla hanno occupato la cresta qua sopra del Castellone come aveva detto prima il paese di Caira sono arrivati fino alla strada che da Caira va dentro al Cassino ma si sono fermati in una zona chiamata le baracche le baracche erano durante la prima guerra mondiale il campo di concentramento sulgarico e poi è diventata scuola dei reggi carabinieri e adesso non c'è rimasto praticamente niente perché è stata bombardata erano tutte baracche io che ho scritto una storia del fascismo in terra di lavoro parla che a Cassino ci stava un battaglione dei carabinieri degli anni venti dove stava un battaglione delle baracche era una scuola però era una scuola carabinieri si però ci stava un battaglione c'è un battaglione Cassino che è un battaglione inteso come scuola in senso penso di si guarda ignoro però dicevo che Montecassino prima dicevo fondata intorno all'anno 529 ho detto 525 vabbè quindi ancora è buona la memoria noi si battaglione in senso tipo scuola inteso il battaglione dei carabinieri ci sono anche parecchie foto ci sono anche parecchie foto fatte dagli austriaci mentre erano prigionieri ok andiamo avanti così andiamo tiramina seconda battaglia di Cassino quella che comprende il bombardamento del monastero quindi la puntata la chiamano le battaglie di Cassino sì la battaglia di Cassino però in realtà sono quattro vabbè allora chiamiamo la battaglia di Cassino che poi molti li chiamano la battaglia di Monte Cassino però noi appassionati ricercatori storici preferiamo chiamarla la battaglia di Cassino non so perché Monte Cassino ha molta visibilità mondiale perciò arrivano a Monte Cassino quali erano gli intenti tattici degli alleati per il bombardamento della pazzia allora era un attacco dei neozelandesi che in quel momento erano arrivati a Cassino e che avrebbero preso loro il comando di tutte le truppe alleate qua nella zona di Cassino intendo compreso quelli della quarta divisione indiana che vediamo qua l'idea era quella di da Caira salire verso la bassa di Albaneta e puntare al 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 e poi scendere giù nella valle del Liri e quindi se riuscivano a fare questo questa era l'idea eh l'unica cosa che ci fu veramente fu l'attacco dei neozelandesi alla stazione di Cassino questa è la stazione ok ma pure qui furono ritirati ok gli indiani che dovevano attaccare gli è successo una cosa spiacevole piuttosto un po' spiacevole più avanti la vediamo ah nei vari attacchi che voglio tornare un attimo indietro qui era presente ti dico che qua sopra c'era una trentaquattresima divisione di fanteria Red Bull la trentaquattresima fanteria Red Bull aveva nell'organico la centesima brigata Nisei i giapponesi delle isole Hawaii che combattevano con gli alleati questo non lo sapevamo sì sì i famosi che morì ma pure in cose è il battaglione alleato più vigorato della seconda guerra mondiale e però non ci sta il monastero giapponese induista buddista no 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 beh l'avranno portati questi erano aggregati con la trentaquattresima USA ma li avranno portati in padri l'avranno portati no a Nettuno prima a Nettuno anzi forse prima seppelliti a Venafro a quello provvisorio e poi a Nettuno cosa fece che uno di questi qua di questi Nisei qua di cui si sa nome cognome si beccò anche nella decorazione sotto al castello della Roccaiano la distruggia a distruggere con un colpo di bazooka uno degli quattro Sturmengeschutz presenti sulla battaglia sul fronte di Cassino ed eccolo qua distrutto questo qua io gli ho messo una fotografia sola ma in realtà di questo carro distrutto ne esistono almeno a meno 6-7 un posto d'osservatore della trentaquattresima divisione Red Bull vedi il simbolo questa è la patch della trentaquattresima sopra proprio il castellone perché il castellone era abbastanza alto dal castellone si poteva vedere tutto sotto abbastanza non era come dire centrale come quota 5-9-3 il calvadio però insomma non era male torniamo un attimo al monastero i civili erano il castellone tutti i civili erano andati via erano stati sfollati e si erano spalmati in tutti i posti possibili e inimmaginabili sulle montagne una famiglia venne pure a piedi monte non so non ho capito una famiglia di sfollata venne anche a piedi monte durante la guerra credo quegli anni lì sì 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 non faccio nome perché andiamo a piedi monte matese a piedi monte a piedi monte non parlo a piedi monte non san germano parlo a piedi monte matese a piedi monte a lì una famiglia famosa abbastanza conosciuta e anche a piedi monte qui venne ospidata gratis da un'altra famiglia ma venivano dal monastero? non so se venivano dal monastero comunque Castellone era risultato o pochi comunque in quei frangenti lì non dal monastero il problema era che quelli che stavano intorno all'abbazia di Monte Cassino e che volevano entrare dentro l'abbazia e che in primi tempi l'abbate e i monaci non li volevano fare entrare tenete presente che l'abbazia era stata considerata off-limits dei tedeschi 500 metri in cui non ci si potevano avvicinare anche se in realtà qualcuno si avvicinava soltanto un medico entrava mi sembra perché i monaci avevano ebbe un monaco Don Eusebio moriva di tifo in quei giorni io ho visto quella I Diavoli Verdi quel film sul tuo canale YouTube che non che ignoravo insomma quello che si svolge anche nella bazia di Monte Cassino Monte Cassino nel cerchio di fuoco o I Diavoli Verdi? I Diavoli Verdi ma devi vedere quell'altro è più attinente allora vedo anche quell'altro vedi quell'altro è più veritiero diciamo perché il Diavoli Verdi è sempre un film di propaganda capito? allora a un certo punto l'abbate decise di ospitare i civili dentro il monastero perché? perché il monastero era considerato ma chi lo bombatta? ma chi lo tocca? noi siamo qui ci andiamo a spalmare ci andiamo a entrare dentro ci andiamo a mettere a tutte le parti il monastero è enorme tu non lo puoi immaginare in quel momento dentro ci stavano forse 12-15 monaci quindi era vuoto praticamente quindi a voi a te occupare sotterranei stanze e via dicendo è una cittadella purtroppo molti di questi non andranno nei sotterranei ci vuol dire avere mura esterne di 5 metri ma andranno a rifugiarsi nel Chiostra dei Priori che è a fianco e è a fianco anche adesso della cattedrale dove anche adesso c'è la falagnameria andranno a mettersi nella falagnameria e lì successe quello che non doveva succedere lo vedremo dopo domina un po' chi è questo questo è il generale del nidozionandese Freiberg quello che chiese volle e ottenne il bombardamento del monastero era un generale britannico e lui era inglese anche se combatteva con gli nidozionandesi una vittoria cross nella prima guerra mondiale ma nelle tecniche di combattimento era rimasto la prima guerra mondiale intanto non si rendeva conto di cosa poteva fare un enorme bombardamento strategico fatto da decine e decine di bombardieri pesanti e lui chiese e volle e ottenne il bombardamento dell'ambazia la storia poi è che in realtà ci furono tantissimi contatti tra i vari stati tenete presente che dentro il Vaticano c'erano tutte le ambasciate quindi si parlavano tra di loro certo i tedeschi, i giapponesi, i italiani i francesi, i americani, i inglesi quindi i contatti molto partivano da lì c'è un bellissimo libro di Nando Tasciotti dedicato all'abbombardamento dell'abbazia in cui tutto il carteggi lui l'ha trovato quindi non fu non fu proprio una oggi bombardiamo, facciamo destra e croce bombardiamo sì, bombardiamo no ci furono vari contatti purtroppo però la guerra prevalse e a malincuore Clark e Alexander anzi Alexander obbligò Clark a dare il via libera al bombardamento e il 15 febbraio del 44 questo avvenne senza che prima, il giorno prima sapendo che il monastero era occupato da tutti quei civili lanciarono questo famoso volantino questo famoso volantino non fu preso per niente in considerazione e tieni presente che però lo lanciarono il 14 il 15 fu il bombardamento ci stavano pensando non ci stavano pensando ce ne andiamo, che facciamo? uscire fuori c'erano anche tedeschi che non volevano che uscivano i civili fuori la paura che avevano era che i civili riuscissero ad arrivare alle linee americane alleate e spifferare tutto quello che avevano visto il numero delle paure era quella ma gli sparavano se ci provavano capito? arrivo a questo volantino qua il giorno del 15 fu scelto perché era una bella giornata di sole e poi anche l'intelligence americana alleata aveva scoperto che il giorno dopo il 16 ad Anzio ci sarebbe stata una offensiva tedesca e quindi la forza aerei doveva andare a bombardare da quelle parti e quindi ci fu il bombardamento eccolo qua la Roccaiano, la di Cassino e soprattutto quello del bombardamento dell'abbazia qui ovviamente si scatenano dato che lo sapevano tutti e lo sapevano anche i tedeschi che non ebbero un morto durante tutta l'abbazia tutto il bombardamento del monastero non ebbero neanche uno tutti i miglia americani si posizionarono su un monte troppo quanti italiani morirono? cioè all'abbazia morirono? i monaci morirono? monaci nessuno e per quanto riguarda i civili te lo dico alla fine c'è proprio un cartello questi vabbè i frammenti di video possibili e immaginabili ci siano talmente video ogni tanto qualcuno nuovo stavano posizionate sul monte trocca abbiamo visto poi sulla collina di Cervaro a fare queste riprese ecco qui una fotografia della ricognizione alleata ricognizione qua stanno bombardando facci caso a questo grappolo di bombe che sta accendendo non sta andando verso Cassino questa prima che arriva giù ci mette e come vedi in realtà sta puntando sopra la zona dove adesso c'è il cimitero polacco non sta puntando sull'abbazia perché ci saranno molte bombe che tra l'altro neanche un bersaglio puntiforme non è che adesso c'hai un operatore che ti spara un laser sul bersaglio e tu gli fai entrare il missile dalla finestra allora era ben diverso erano sistemi ottici molto imprecisi poi bastava un colpo di vento la bomba ce la andavano da tutte le parti e dove andarono queste bombette quaccare guarda qua tutta la zona guarda questa è la ricognizione fatta dopo dove qualcuno in camera oscuro si è messo a segnare tutte le bombe esplose l'abbazia sta ben so male qua sotto a quanti migliaia di metri avvenne il bombardamento avvenne guarda c'è scritto qua aspetta dovrebbe stare scritto qua 183 733 altezza 18 8.5 piedi però piedi devi dividere per 3 18 per 3 dobbiamo dividere per 3 3.000 metri a 3.000 capito Cassino è ancora 6.000 metri scusa 6.000 metri 6.000 metri la cosa cicciosa per noi ricercatori sono questi dati qua qua c'è tutto c'è l'orario in cui le hanno sganciate quante bombe sono state sganciate quante sono esplose e ogni puntino bianco è quello che l'operatore in camera oscura è riuscito a individuare però la cosa che mi interessa adesso è farti notare che le bombe stanno arando verso il cimitero polacco e dove su quota 593 dove in quel momento ci sono gli indiani perché perché nessuno li aveva avvertiti che avrebbero bombardato quindi bombardano pure gli indiani ci saranno parecchi morti alleati forse anche qualche americano l'aeronautica non comunicava con no ma adesso lo fanno comodamente hanno i satelliti hanno gli AWAC quegli aerei con la padella sopra che gira ormai la tecnologia perlomeno in quel senso è cambiata ma allora aspetta un attimo perché mi sta cascando il microfono ecco interessantissime queste foto anzi sono stato molto contatto perché è una pagina che ignoravo totalmente sono vent'anni l'hai detto allora io ma che fai conferenze che fai conferenze no che faccio conferenze è una decina una decina 15 lo fate anche insieme a altri non solo da solo eh tieni presente che sembra strano sembra io non mi considero uno studioso mi considero un ricercatore perché io cerco cerco trovo e analizzo analizzo in base alla mia esperienza di campo di battaglia contatti con i reduci eh camminare essere stato lì su quelle colline non so quanto è tempo no questa collina che vedi qui vedi qua sì sì qui adesso ce l'obelisco polacco qui sotto non lo vedi ma qua c'è il cimitero polacco il cimitero polacco un po' più su ci stanno sta qua sotto sta qua sotto dentro questa valletta da qua non lo vedi ovviamente lo spettacolo non è lo spettacolo scusa il termine il dramma non è soltanto per chi sta facendo le riprese eh sui vari monti trocchio eccetera eccetera ma anche qualcuno che sta lì sulle strade che va da Cervaro eh verso Viticuso appunto no e che si fa questa fotografia qui no per non parlare di quest'altro pazzo scatenato qua guarda dove questo durante il bombardamento stava a quanto a 500 metri dal monastero roba da prendersi la bomba in testa la passione di fotografi non ha limiti ma roba da prendersi la bomba in testa ma pensa soltanto allo spostamento d'aria ma le hai viste quale bombe come sono sì se tu vai dentro il monastero c'è un musetto sul bombardamento che è bello ci sono le bombe lì ed ecco il risultato anche se questa foto è del maggio giugno quindi però in realtà l'abbazia continuerà ad avere il giorno dopo e altri giorni altri avrà sempre altri bombardamenti aerei ma anche il bombardamento dell'artiglieria faranno in modo di durla così perché io ho una fotografia del 16 di febbraio in cui le stanze sopra se tu mi vedevi c'erano ancora dei tetti intatti c'erano ancora dei tetti in piedi cioè venne massacrata nel tempo nel tempo è stata ridotta come l'abbiamo vista così così vedi questa slavatura che scende giù certo e questa è l'acqua al tempo ha piovuto insomma e ha fatto scendere tutto la polvere delle macerie i detriti insomma i detriti eccetera eccetera mi sto perdendo la cuffia allora questo l'abbiamo vista poi ovviamente all'interno dell'abbazia i chiostri l'abbazia il chiostro visto dal chiostro del Bramante tieni presente che la propaganda tedesca si scatenò no gli hanno fatto un piacere da niente insomma oltre a dargli un posto dove rifugiarsi no sono andati lì a fare 3.000 foto con una di queste ed ecco che arrivano in ballo i pari autisti tedeschi e proprio in quei giorni ne erano arrivati questa fotografia qui con questo pari autista che guarda con il binocolo siamo sopra quasi vicino all'obelisco polacco qui invece siamo dove c'è questo pari autista che esce dalle rovine di due case che si chiamano Santonofrio sotto monastero siamo praticamente qui a sinistra qui a destra c'è il cimitero polacco quindi siamo nella parte bassa dalla valletta del campo di battaglia i civili quello che successe nell'abbazia per loro fu una cosa terribile ti consiglio dimmi questo è Cassino qui no 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 questo è Roccasecca questi sono i civili che sono stati sono arrivati a piedi da Cassino a Roccasecca ti rendi conto sì 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 15-20 chilometri ma sì ma passando per dove per Colle San Magno passando per sì passando per Colle San Magno è montagna affiancarono Terelle sceso giù e furono accolti dai camion tedeschi qua si vede pure un alpino tedesco guarda con l'alpenstock e furono poi trasportati nei vari punti di raccolta tra cui anche a Ceprano poi a Roma e poi per il resto d'Italia poi dopo vedremo i numeri dei morti e quello che è successo l'abbate di Amare invece mi sembra che fu raccolto a Colle San Magno insomma un po' prima da un mezzo tedesco che lo portò qui qui siamo l'abbate di Amare lo vedete nel quartiere generale del quattordicesimo gruppo collezionato tedesco a Castel Massimo di Veroli nella casa di campagna del Marchese Campanari che era un nobile di Veroli il signore che vedete qui è Von Zenger che parla con il suo amico perché sono amici Abbati di Amare che in questo caso è intervistato la propaganda tedesca si muove subito e non si fa scappare niente e comincia a mandare in giro addirittura gente che lo ferma lungo la strada per fargli firmare un altro documento era di Napoli era Gregorio Vito di Amare è stato vescovo cattò beh era Abbate nato a Napoli il 13 aprile 1865 quindi all'epoca poi è morto è morto è morto nel 46 nel 45 e si è scritto qui è morto a San Terefiume Rapido quindi all'epoca aveva quasi 80 anni e beh immagino un po' insomma non è che aveva un fanciulletto in fiore ma parlava tedesco secondo te o erano i ufficiali no 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 lui aveva un interprete in questo caso era Von Zenger che parlava perfettamente italiano ah questo parlava come si chiama Von Zenger Fridolin Von Zenger un Wetterling e quindi era nobile sì sì certo Barone ah Barone perfettamente italiano ti consiglio il suo libro che si chiama La guerra in Europa ok di Von Zenger la guerra longanesi mi sembra ok che io ho chiaramente la parte del diario sul Cassino interessante non solo sul Cassino ma anche sul salvataggio dei tesori dell'Abbazia e questo va letto ce lo dice allora nome e cognome e libro come si chiama allora Fridolin o Fridolin o Frido Fridolin Von Zenger Sanger è scritto S-E Zenger und Eterling Eterling che è sempre il titolo del libro La guerra in Europa La guerra in Europa grazie La guerra in Europa ma guarda che se tu vai sul mio canale YouTube io ho fatto una delle mie recensioni di Cassino Book ma io lo comprerò perché mi interessa ma lo trovo lo si trova ancora si trova era giovane lui lo vedo giovane ma stasso eh ma insomma sì oltre 50 anni ormai già però si portava bene sì sì era magro era magro alto ma si portava bene ma si faceva si faceva lui andava sempre a visitare le trincette tedesche sul Cifalco e si faceva a piedi lui dal Cifalco da Colle San Magno dove si poteva arrivare fino in macchina ma gli ufficiali tedeschi questi qui perché noi abbiamo l'immaginario tedeschi cattivi stragi questi qui non erano uomini di stragi di 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 von Sengel ti ho detto era un antinazista era un antinazista se no chi sta a fianco vuole quello che parla con l'abbate di e vai a capire questa è una propaganda compagnia è un uomo della propaganda ha fatto di propaganda i tedeschi avevano le compagnie di propaganda facevano di tutto dalle interviste alla fotografia ai filmati a tutto il resto ok quindi da non prendere in considerazione vai a capire addirittura trovavano anche le SS infatti una di queste lo fermarono sui colli albani l'abbate perché volevano che firmava un altro documento in cui diceva che dentro l'abbazia non c'erano tedeschi cosa che lui aveva già fatto davanti a von Sengel ne volevano un altro sai cosa fece di Amare? eh? no ce li mandò proprio ce li mandò proprio capito? vedete dove cavolo doveva andare avete tutto il scato oh e questo è il momento in cui abbate di Amare ecco von Sengel guarda qua che silhouette no? era magrissimo sì 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 sull'1.80 credo sì è un bello alto 1.85 1.80 1.85 poi lui con il monopolo quello dietro a Diamare eh vai a capire non lo so l'altro ha giacca nera sulla destra è un carrista? ah il carrista perché non è solo le divise tu riconosci benissimo il carrista aveva giacca nera a volte sì a volte no questo c'era il generale come mai non portava il cappello e portava la bustina questo era un vezzo di von Sengel ah cioè poteva farlo e portava sì sì vabbè vai a di qualcosa certo un po' di una cosa del generale ma anche italiani portavano si chiama bustina quella sì sì ma qualche noi qualche fotografia di generali con la bustina l'ho vista mi sembra sì mi sembra tieni presente che von Sengel c'ha la Ritterkreuz la croce di cavaliere non è una croce di ferro questa eh non la confondere la croce è uguale ma questa è una croce la croce assomigliava la croce di ferro sì sì ma questa è un cavaglierato è diversa c'ha proprio un'importanza letale anche adesso eh cioè la più importante scusami è la croce di cavaliere che poi la croce di cavaliere aveva vari gradi ah ok c'era quella normale c'era quella con fronte di guercia c'era quella con fronte di guercia spade brillanti e la davano non a tutti no no ed era un ma esisteva dalla prima guerra mondiale mi sembra ah ok ma io ho visto reduci e ho visto un reduci tedesco al cimitero al cimitero tedesco di Monte Cassino Albert Fries si chiamava un caporale che aveva distrutto non so quanti cari armati canadesi e polacchi con la sua dentro la sua torretta di Pantera no sai quelle messa a bunker no questo Albert Fries si presentò lì con il basco rosso dei periodisti e con la sua Ritterkreutz al collo io ho visto ufficiali dalla Bundeswehr scattare sull'attenti davanti a lui capito? che quando si vedeva quello si ci si si faceva il saluto militare no no proprio quella cosa che vedi nei film no tacchi che sbattano saluto militare lui faceva soltanto un cenno col capo ma anche lui aveva una faccia tagliata col coltello qui siamo sempre al quartiere di generale del Castel Massimo questo è l'ingresso di dietro Castel Massimo di Veroli Castel Massimo di Veroli c'è un ristorante qua che si chiama Ristorante del Massimo Feudo che è la vecchia questo posto qua ho capito propaganda tedesca come l'ho detto a voglia te no ci sono palme stavano nel primo chiostro quello dove entri appena adesso non lo so mi sembra che qualche altro l'hanno stampato io vedo il mosaico qui credo che sia una cosa questa è una volta crollata interna guarda il coro guarda il coro questo è il coro interno tutto istoriato di legno che stava dentro dentro la c'hanno lavorato i migliori artisti italiani io tu pensa con mio padre salì qua sopra negli anni 60 e li stavano rifacendo a mano stavano proprio avevano quelli che avevano potuto salvare erano salvati e negli anni io sono in Ciociaria dal 65 tu sei milanese ricordiamo per gli tu sei milanese però si è sposato in Ciociaria no ma sono in Ciociaria quando avevo 11 anni e con mio padre andavamo sopra e vedemmo ci mettiamo a parlare con un monaco che non so dirti se c'era o non c'era in quel periodo e in quel momento c'erano degli artigiani fiorentini che stavano rifacendo questi alta perizia non li trovi dietro casa questi non li trovi non li trovi non li trovi qui siamo proprio nella cripta di San Benedetto se uno si gira verso destra vedi proprio la cripta dove adesso c'è dentro San Benedetto con Santa Scolastica bello veramente bello ovviamente anche la propaganda italiana non perse tempo quella della Repubblica Sociale intendo non perse tempo a parlare dei barbari distruttori delle opere d'arte è di Walter Molino vedi la firma Walter Molino uno degli illustratori famosi uno degli illustratori famosi situazione tattica praticamente uguale soltanto un pochino più di lingua di terreno occupato degli alleati sulla strada che da Cassino va verso Caira poi questa qua la vedremo in parecchie foto questa strada adesso andiamo avanti terza battaglia di Cassino quindi praticamente arriviamo al bombardamento della città la cosa principale quelli sono i Gurka quelli che dicevi tu allora qui c'è di tutto qua c'è tutto il Commonwealth questa è la cosa strana buffa chiamata una come tale di quelli lì che ha combattuto mezzo mondo dagli indiani dai giapponesi dai Gurka che erano nepalesi i Gumieri gli Algerini quelli del Chad del Nepal c'erano tutti non c'erano più gli americani gli americani che guarda sai quando ti avvenne male la pensiera dopo le cavolate che hanno combinato sono andati a fare bella figura manco lì poi ad Anzio perché ad Anzio sono morti pure l'Anzio e la voglia te dice è morto anche il papà di Roger Waters il bassista di Pink Floyd sì quindi miscerea di razza che non finiscono mai e quello che vedete con il cappello è il Gurka che porta proprio il simbolo della quarta divisione indiana dove loro erano temibili combattenti molto coraggiosi e tenaci come corpo e poi all'arma bianca avevano quel pugnale e beh allora col pugnale erano terribili non facevano prigionieri non facevano prigionieri niente proprio arriviamo al momento in cui quel gran furbo di Freiberg scusatemi se sono molto cattivo con lui che non ha capito niente di cosa succede quando una città viene polverizzata da un pesante bombardamento strategico e adesso vedremo perché questa è una delle ultime foto di Cassino ancora intatte mi sembra di vedere un po' di macerie intorno alla Roccaianola perché ovviamente è già stata pistata era la cosa più evidente e l'hanno pestata per benissimo anche il collino anche il villino colella che adesso non esiste più infatti il villino colella non esiste più non esiste più c'è la base c'è la parte di cemento c'è una base forse forse quello che rimane non sono neanche sicuro qui ancora qualche colpo d'artiglieria comincia ad arrivare però il bombardamento grosso arriva quindi qui siamo al 15 marzo ben un male alle 9 qualcosa del mattino la stessa squadriglia che hanno bombardato come quantità e come bombe eccetera eccetera bombardano Monte Cassino lì sotto ci sono 300 paragraudisti tedeschi ne sopravviveranno forse la metà ma saranno più che sufficienti per fare i danni che tra poco vediamo questa è la fotografia iconica una delle più famose del bombardamento vedete le grosse bombe d'aereo e falsare la terra fino a 30-40-50 metri erano bombe enormi cioè bombe diciamo obbici ma poi tieni presente che quel terreno lì è la base del gario e del rapido quindi è un terreno morbido prima che esplodono vanno sotto fanno un enorme cunicolo enorme tunnel verso l'alto ecco perché anche esplodono a questa maniera verso l'alto quando c'entrano gli abitati è in altra storia questa è la fotografia al sombra dell'alto del bombardamento di Cassino vediamo che qua stanno centrando abbastanza bene bene purtroppo il centro ecco ecco via le Dante adesso qua sono tutte case guarda sono tutte case e questa è la stazione la strada che va la casilina che va verso Roma e questa è la ferrovia che va sempre verso Roma quindi sopra c'è Roma e sotto c'è Napoli per farla semplice ancora la fotogrammetria americana fa sempre i suoi studi e ti dice tutto quante bombe sono esplose quanto hanno colpito che distanza l'ora e via del genere oro per noi lo spettacolo non è soltanto fotografato ho visto dai vari Montetrocchio da Cervaro ci stanno anche questa famigliola penso questa dovrebbe essere la zona di Sant'Elia vista l'inclinazione della foto sì dovrebbe essere lì questi bambini che sono fortunati perché la guerra su di loro la vedono da lontano ma gli è passata sulla testa faccio caso che la loro casa è bombardata ma sono bambini sono bambini c'è anche forse un anziano qui o un vecchio che ignaro di tutto stanno praticamente quasi giocando queste sono le varie fasi della terza battaglia di Cassino che cosa prevedeva dopo che c'è stato il bombardamento e lo spianamento di Cassino città che cosa prevedeva vado da sinistra verso destra vado da destra verso sinistra queste erano le intenzioni soltanto una cosa riusciranno a fare attacco che puntava verso la stazione sempre dei neozelandesi che avrebbe raggi ha girato la zona centrale quella famosa dell'hotel Excelsior Continental o che si dice voglia una parte avrebbe passata dentro dentro a Cassino alle macerie non è che ci stanno le strade lì c'erano le macerie un'altra avrebbe salita verso la collina del castello la Roccaianola e ancora parte dell'altra di quello che andava al centro sarebbe salita con Roccaianola è l'unica cosa che riusciranno a fare conquistare il castello di Roccaianola tutto l'altro che adesso vi dico non avverrà ci prova non è per carità ma non avviene la quarta divisione indiana attacca con i Gurka direttamente passando per le colline sopra Cassino puntando alla Hangam Seal la Hangam Seal è la collina dell'Impiccato in realtà il monte il toponimo giusto è Monte Venere sapevo che si chiamasse collina dell'Impiccato perché c'era il tralizio dalla funicolare che sembrava una forca che dalla stazione il cavo fu tranciato da un pilota scavezza collo tedesco che ci lasciava non hanno fatto più la funicolare da Cassino io volendo no l'idea c'era ma avevano altre intenzioni e per fortuna non l'hanno fatta l'intenzione era un'altra non te la sto a raccontare un altro pezzo un altro reparto della Degentiana passando sempre per le colline sopra qui è tutta collina qui è un macello sopra sotto valli, vallette una cosa doveva puntare direttamente all'ingresso principale dell'Arabazia il giorno un po' di giorni dopo il giorno stesso un altro reparto doveva salire qui da Giudacaira passando per quella che poi conosceremo come la Caver di Sherod arrivare alla Masseria Albaneta e arrivare fino al monastero tutto questo come vi ho detto l'unica cosa che gli alleati riusciranno a fare è la conquista del castello della Rocca Iannula qui succederanno delle cose attacchi contrattacchi il giorno che decidono di attaccare l'Hangam Seal avviene il famoso contrattacco tedesco dei Paragautisti la cosa medievale a combattere sotto le mura del castello a prendersi anche a Sassate non so quanti morti avranno soprattutto i Paragautisti tedeschi perché scenderanno giungo un lungo periodo tutto scosceso completamente allo scoperto e ne faranno strage e non riusciranno a conquistare la Rocca Iannula ecco il paesaggio di una Cassino bombardata questo qui il signor Freiberg non l'aveva previsto per niente un macello dove tu a piedi devi passare tra guarda il cratere qua questo è il cratere i cararmati dovevano infilarsi qua dentro dovevano passare in mezzo i crateri quando lì ci stavano ti ripeto centocento centocinquanta gatti selvatici che erano i fascimie i Paragautisti tedeschi che non se lo mandavano non glielo hanno mandato la certa a dire era una zona pericolosissima perché tu non sapevi cosa c'era dietro al rudere ci stavano tedeschi che sparavano praticamente non solo tedeschi ormai se lo vedi guarda lo Sherman ribaltato questa casa qua è una delle poche che ancora sopravvive al casino si abita un amico mio Giancarlo Langiano io lì dentro ci sono state svariate volte nella costruzione che c'è adesso ma è simile c'è questi portici questi archi vicino alla villa comunale no 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 qui siamo verso Caira se tu vai davanti a questa casa e poi giri a destra te ne vai verso Caira ok quindi siamo dove saranno le carceri qui ci sono le carceri adesso qui ah nella Sferra Cavallo bravo bravo questo ha fatto la fotografia sulla Sferra Cavallo andiamo avanti ecco cosa ecco guarda in che ginepraio si andava a infilare la fantarina nel zolandese qui era impossibile che ne sai cosa c'è dietro questo muro che ne sai che se non vai fin sotto il tiro di un cecchino era a combattere qui era impossibile per non parlare dei carri armati che non andavano da nessuna parte i feriti ovviamente venivano trasportati questi stanno andando verso Caira la parallela della Sfera Cavallo quella che va verso Caira a me mi viene quasi non dico da ridere ma quasi questi pareotisti tedeschi in mezzo a quel dramma terribile hanno anche la sfacciataggine di impiazzarsi nel centro di quello che adesso piazza Corso della Repubblica se tu vai qua a destra c'è Corso della Repubblica è tutto il lungo viale di Cassino queste che vedi qua dietro sono i resti dell'hotel Continental o Excelsior l'ho visto su una cartolina perché in quelle collezioni cartoline c'è stato un bel hotel è quello lì è il palazzo danese il palazzo danese era la famiglia della moglie di Giulia Andreotti l'avvocato danese mi ricordo il palazzo era bello è una delle prime famiglie di Cassino perché erano gli Giulia Andreotti danese alle spalle del fotografo ci sta la casilina che adesso è via di Biasio che va verso Roma questi sono lì belli belli a farsi fotografare c'è un loro morto che mi sembra che è il tenente di Ramlet mi sembra c'è anche uno dei componenti questo con l'elmetto normale non da pari di vista dello Sturmengeschutz lo Sturmengeschutz che lo incontriamo tra poco tra poco però questa è la via di Mercaira che era l'unico posto in cui potevano arrivare le jeep periferite e si azzardavano i fotografi e i cineoperatori da arrivare bisogna far caso una cosa degli scontri in città noi vedremo tantissime foto ci sono tantissime foto della propaganda compagnia foto filmati ci sono tante foto della propaganda compagnia tedesca degli alleati ce ne sono pochissime rare addirittura molte sono state sono state girate hanno fatto una fiction girata a Mignano Montelungo tra le rovine di Mignano Montelungo spacciandole per Cassino in realtà non era Cassino hanno fatto tutta una cosa finta ma tanto chi sta in America che ne sapeva che ne era Cassino no ma ti posso anche dire che siamo rimasto fregato anche io e i miei amici questa cosa vabbè ma è difficile riconoscere un ruolo questa cosa l'abbiamo scoperta negli ultimi 10-15 anni prima ci hanno fatto ci hanno fatto le copertine ci sono delle copertine di libri importanti sulla battaglia in cui ci sono le fotografie di Mignano Montelungo capito capito perché gli alleati non avevano la propaganda compagnia erano dei combattenti durante la seconda guerra mondiale nelle propaganda di compagnia ci sono morti 400 mica uno perché stavano in prima linea loro gli alleati in prima linea in questo periodo avevano soltanto quel pazzo scatenato di Robert Capa che poi in Inducina la pagherà cara come ben sai però è una più grande di fotografia eh certo lui andava in prima linea non lo leggeva nessuno Robert Capa è quello del siciliano lo sbarco in Sicilia è quello vecchio con il bastone che indica però sul Pantano come ti ho detto prima lui si è beccato le mortali tedesche e se tu leggi i suoi resoconto nel libro leggermente fuori focus che peraltro io ho fatto un articolo in Davoltunna Cassino su questo se vai in Davoltunna Cassino trovi l'articolo dedicato alle foto del Pantano lui dice l'articolo dice che si è vista brutta proprio lì eh i morti a destra a sinistra e poi ha fatto un sacco di fotografie degli americani morti lì eccolo qui il signor Sturmengschutz 3 il l'astro nella manica delle truppe tedesche qui siamo all'hotel questa zona è sempre stata denominata come hotel continental o eccelsior in realtà lui stava posizionato dentro al palazzo Yucci che è il palazzo a fianco all'Eccelsior è proprio lì di lato stava in questo arco Yucci è parente a quel generale dei garabinieri la famiglia di Cassino era Yucci beh abbiamo un palazzo manco piccolo però questo è lì i palazzi con la guerra si sono persi insomma no no sono stati costruiti qua c'è un bar se tu adesso ti vai a fare uno ieri e oggi in questa fotografia sei dentro al bar ok quella che vedi lì fuori è via di Piasio che era molto stretta è la casilina praticamente ok se vai a sinistra vai al centro quella che porta verso l'ospedale no 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 l'ospedale è quello vecchio è quello vecchio sì se vai a sinistra se vai a destra qua arriva all'ospedale vecchio ok quello vecchio quello nuovo quello nuovo sta fuori sta verso Santeria quello sta alla folca cioè quello nuovo sta fuori insomma sì sì sta fuori sta fuori qui siamo dentro alle cantine del palazzo Yucci notare le bombe a mano sullo stipide il fotografo si è messo sullo sturm che shoots e qua sotto con i Feldmuzze e quelli del metto questi sono parte dell'equipaggio dello Sturm il signore che vedi qua che sta parlando con il capitano Oppel mi sembra si chiama dello Sturm è il capitano Reneke che sarà lui a coordinare tutti la difesa dalla parte bassa in cassino della difesa prima di lui ce ne stava un altro di capitano capitano Foltin che però dato che era anche un tipo magro magro secco però molto attivo molto eroico verrà portato fuori di peso da Cassino e non tornerà mai più a Cassino perché era proprio come dire deperito dai combattimenti eccolo qua Rene qua praticamente il fotografo si è messo a fianco siamo dentro alla cantina del palazzo Yucci il fotografo si è messo a fianco allo Sturm che sta qui a sinistra il capitano Foltin anche lui con la bustina ed è seguito con tutti i parerodisti anche questo è un parerodista anche se porta di questi sappiamo tutti i nomi il capitano partono forte questo è Reneche nota una cosa Reneche porta una spolverina SS che in realtà era stata data in dotazione alla divisione Hermann Göring si vede infatti qua c'è l'aquila vedi l'aquila di petto se ne era procurata una e la usava lì nelle cantine del palazzo Yucci poi il campo di battaglia era questo guardate da visto le posizioni tedesche vi ripeto che le fotografie ci sono tantissime tedesche tante anche scatti privati moltissimi scatti privati che io ho ovviamente qui siamo questa è famosa questa fotografia qua mi hanno detto gli abitanti di Cassino che questo androne qui dentro la Cassino abbandonata e sotto gli alberi esiste ancora prima o poi mi faccio dire dove cavolo è ci vado guarda anche se è un po' pericoloso certo sarà tutto pericolante lì basta sposti una pietra ti veggio tutto eh certo sì anzi mi sa che sono gli alberi che li tengono insieme sì ancora sono due fotografie queste qua vedi una classe ma tenivano pure ottime macchine fotografiche per l'epoca e laica e ora questi allora tu vedi scatti privati non sono fatti bene perché avevano macchinette queste invece sono propaganda compagnia sono professionisti ah perciò sono fatte bene eh sono professionisti sono molto definiti allora una delle poche fotografie fatte dagli alleati un inglese che sbircia verso la solita casa del mio amico Giancarlo Langiano eccola qua sempre lei quella che c'è lo Sherman ribaltato davanti i pareautisti che stavano dentro a Roccaianula e che furono ripeto fu la unica a essere conquistata furono presi all'improvviso di sorpresa e furono tutti catturati eccoli qua questi sono i pareautisti sulla strada di Caira che sono stati catturati dai eh dai neozelandesi qua dietro c'è il tra uno degli affluenti uno delle varie dilamazioni del rapido il rapido dopo un po' è stato incanalato spostato e via del genere piccola nota questo qui che vedi alto che porta il giaccone da Lazio più porta un foulard bianco no io l'ho conosciuto venne al cinquantesimo e non mi ricordo si chiamava Mobius o Moebius e mi disse quello sono io infatti si assomigliava ci sono altre foto di questo che si vede bene in faccia no infatti gli assomigliava ma è vecchio aveva 70 e passa anni mi disse ma perché porti sto foulard bianco quello non è un foulard quello è un paragadute è un paragadute d'aleato che io ho catturato sopra presi e rubai perché quando i Gurka si asseglararono sopra la collina dell'impicato rimasero isolati per un certo tempo e gli lanciarono i rifornimenti con i paragaduti di diverso colore per i vari significati di quello che contenevano adesso non mi ricordo com'erano insomma i due colori diversi indicavano o munizioni o cibo e acqua e lui dice io mi sono preso sto bel paragaduto e mi sono fatto la sciarpa hai capito? il campo di battaglia alto non ce lo scordiamo i tedeschi sono sempre intorno all'abbazia e ci sono i tedeschi con le loro MG42 anche questa è stata scattata nei presti del Calvario del 593 tu pensa che Livio Cavallaro uno dei massimi esperti della battaglia di Cassino nonché autore del miglior libro che possa esistere lui ha fatto una volta uno studio talmente approfondito che ha detto che se tu in una ipotetica scena in cui tu sei in piedi al cimitero polacco sei sotto il tiro di 80 MG42 hai capito? parlando solo delle MG42 poi ci sono i Mauser le Machine Pistol gli FG42 soprattutto il bombe a mano e tutto il resto quindi immagini un po' tu i polacchi poi a cosa andavano incontro vabbè allora questi sono scatti privati che mi hanno dato un parereo di stredesco si permettevano anche di fare e siamo ovviamente questo fosso qui in cui sono dentro cammina al lato del cimitero polacco allora non c'era il cimitero polacco ma questo fosso esiste tuttora io una volta ci sono stato quando adesso è impossibile andarci perché è tutta alberi rovi e cose del genere ma una volta andai lì e trovai una una riscarica di una delle case che stava lì sopra in cui così scavano muovendo la terra io non usavo io non usavo il metal deletto muovendo la terra uscì fuori una borraccia tedesca e la catenella della pulizia del Mauser come niente fosse vedi che questi stanno proprio la bazia si vede bene qua dietro addirittura si mettono in posa con l'FG42 si siedono si possono sedere questo vuol dire che l'intorno le colline sono tutte scombre dagli alleati se si permettono di fare una cosa del genere così alla luce del sole vuol dire che se lo possono permettere veniamo alla famosa Carvindici Road non so se ne hai mai sentito parlare allora era un tratturo della pastorizia un sentiero di montagna che dal paesino di Caira la frazione di Cassino saliva verso il monastero passando per la Marsella di Albaneta quindi era un sentiero che ho capito non la strada ufficiale quella da Cassino è un altro sentiero no ma era era proprio una cosa da pecore è da pecore però gli alleati scoprendo fecero questo piano che era una di quelle famose frecce che abbiamo visto che non la portava poi a nulla su quella piantina di allargarla e la chiamavano Carvindici Road fu costruita funziona come strada sì sì ci puoi usare no ma aspetta ci vai a piedi no con la macchina no va bene il tempo in macchina con un bel gippone di quelli seri e poi devi stare attento perché ogni tanto vengono giù i sassi e io me la sono fatta a piedi una volta nonostante la mia mole da Caira fino all'Albaneta quanto ci vuole a piedi? ma guarda non è poi tanto faticoso come ben vedi il dislivello è dolce sì è dolce non è qualche tratto ma se no ogni tanto organizzano qualcosa per dei gruppi per andare a visitare sopra ci ho partecipato anche io l'Albaneta Carvindici Road fu un'idea di questo ingegnere inglese o indiano perché vedi il simbolo della divisione indiana che costruirono allargarono con la dinamite e a mano la strada dovrebbe fare in modo di farci passare i carri armati alleati e ci riuscirono a far passare i carri armati alleati perché il 19 di marzo del 44 dopo molti rinvii questi carri armati qua senza che i tedeschi se lo aspettavano arrivarono sopra al pianuro di piano dell'Albaneta al primo i tedeschi sbandarono però teniamo presente che questa era gente che aveva combattuto in Olanda a Creta in Stalingrad in Russia e via del genere si ripresero un po' e anche se non avevano al primo momento armi anticarro in quel momento i paragraudisti alla fine li portarono sopra e non ricordo esattamente quanti ne fecero fuori se vai sul mio canale YouTube io ho un video dedicato a questo fatto qua che ho fatto io lì ho qualche dato che ho messo qualche dato però esiste un bel libro di Livio Cavallaro in cui spiega proprio lui un libro dedicato all'attacco dell'Albaneta di Livio Cavallaro che è successo che tornando alle famose fegatacci della propaganda compagnie ce n'era uno sopra al Calvario all'Obelisco il polacco che con la sua bella cinepresa fece tutto un filmino che vedrai c'è tutto nel mio piccolo corto dedicato all'attacco dell'Albaneta e questi sono frame di questo attacco qua questi sono presi dall'alto di 593 ma poi il signorino un pazzo scatenato non solo in mezzo a tutto all'Ambaradam di cari armati che sparavano sparacchiavano correvano e sparacchiavano sotto il fuoco sotto le mini sotto i Panzerfaust e i Panzerscrack tedeschi se ne siesi bello bello a piedi pensa un po' te e se ne andò a piazzarsi dentro l'Albaneta per fare queste altre riprese che vedi qua sotto per fortuna che ci stava lui a fare queste riprese perché se no non avremmo ne avuto nessuna testimonianza di queste io la testimonianza però l'ho avuta direttamente da uno di quei paracattutisti tedeschi che stava lì a far saltare in aria i carri situazione tattica e beh qualcosa è cambiato come ben vedete sono riusciti ad arrivare fino qui prima questa macchia arrivava non arrivava fino all'Albaneta e lo stesso la macchia che andava verso il cassino ha occupato il castello e parte della zona della città quarta e ultima battaglia di Cassino vi direte ma come mai mette una fotografia dalla stazione di Pisa perché questa è Pisa guarda chi c'è qua la torre con la cattedrale perché in quel punto gli alleati decidono di fare una tattica che era di Mondomeri che la usò in Africa la assoluta superiorità su tutto se loro avevano i tedeschi avevano un cararmato loro dovevano avere 400 e per tutto come fanteria la superiorità aerea ce l'avevano già i tedeschi non potevano alzarsi perché gli tagliavano subito la coda decise che dovevano bloccare tutti i rifornimenti che andavano verso il fronte di Anzio e verso il fronte di Cassino con quella che hanno chiamato loro la operazione Strangle io sono andato a Pisa mia moglie ci ha lavorato per un po' di anni parecchie volte stavo lì e ti posso dire che questa zona qui della stazione ancora porta tantissimi vuoti e tantissimi segni dei bombardamenti tu esci nell'androne della stazione di Pisa nella piazza che c'era avanti e ti giri e guardi le colonne della stazione hanno ancora i segni dei mozzichi dei morsi delle schegge delle bombe e lì hanno distrutto tantissime cose vabbè il problema è stato proprio questo che non è che poi hanno bombardato Pisa tutto ciò che era dal nord Italia fino sul fronte di Cassino ponti ferrovie tutto quello che per strade sono state spianate perché noi abbiamo perso opere d'arte mostruose che Milano hanno centrato la scala Palazzo Reale a Milano Palazzo Reale a scala a Padova non so cosa cavolo hanno fatto a Padova pure a Padova gli erenitani ma non solo non solo lì io una volta feci caso che uscendo dalla stazione di Arezzo tutte le case proprio davanti alla stazione di Arezzo erano tutte nuove come mai poi dopo un po' entra il Medioevo però per un certo periodo erano tutte nuove io queste cose ci faccio caso tutte le volte vado da qualche parte mi metto a guardarmi in giro fammi un po' capì sì certo i segni vanno colti certo questo è un fotogramma di un abitragliamento bombardamento di una colonna tedesca non so dove ma è l'esempio di tutto quello che facevano tutto fare questo per non far arrivare i più uomini mezzi cadarmati i fornimenti sul fronte di Anzio e Cassino e ci riusciranno bene o male perché il 12 il 12 di maggio del 44 si scatena l'offensiva finale oltre che in questo momento si stanno anche sfondando a Cassino eh pardon a Anzio nello stesso momento qui vediamo salendo dal basso verso l'alto ah vedete le lettere che ha sfondato a linea Gustav che ha sfondato a linea Gustav strade francesi oh perché adesso ci arriviamo allora no perché no no questi sono quelli che hanno sfondato c'è Polish Corps British USA France l'intervento dei francesi era sui Monti Aurunci ho capito partendo partendo praticamente da Valle da come si chiama il paese Valle Maio no 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 anche Valle Maio però no Valle Maio non neanche tanto no no Campo di Mele a Campo di Mele ho capito Campo di Mele scendendo poi via dicendo salendo anche perché erano zone in cui questi combattivano ho capito Campo di Mele sotto da vicino Minturno a Itri Campo di Mele sta poco prima di Itri via un po' Itri sta qua Usonia Itri sta qua così sta di qua Itri Castelnuovo Parano quello Castelnuovo Parano Usonia allora i polacchi sopra attaccano l'abbazia con tutto un magello perché avrebbero talmente perdite i tedeschi ormai erano stati costretti a mettere parti non era la Germa non era qua è segnato Germa 44 ma questa qua a questo periodo stava qua davanti a Castelnuovo questa cartina è sbagliata c'erano invece quelli della quinta divisione di montagna a sostituire parte dei paralautisti intorno all'abbazia di Montegassino perché cominciavano ad avere perdite ad avere pochi uomini ad avere pochi difornimenti i polacchi comunque gli toccherà la parte più triste nella valle dell'Irie ci saranno settantotesima divisione i canadesi gli indiani che attaccheranno al centro della valle dell'Irie la parte dei monti andando sempre verso il mare sarà tutta in mano francese fino a Castelnuovo e alla costa tutte queste F G H I sono francesi G e K sono americani vedete qua prima divisione motorizzata seconda divisione marocchina quarta divisione marocchina terza divisione algerina queste qua e loro quando i polacchi entreranno il 18 di maggio che è la data topica della chiusura della battaglia di Cassino questi stavano già in speria avevano già sfondato tutto trottolavano allegramente erano già giù a Ponte Corvo ne avevano sfondato sono stati loro ovviamente vabbè quello che poi ricordiamo noi ci arriviamo un attimo noi ci arriviamo un attimo ho aperto un radio io ricordo praticamente che è successo è che tutte le truppe francesi che stavano dalla zona di Sant'Elia Fiume Rapico Mainhardt Valle Rotonda eccetera eccetera furono spostate giù in quella zona e questa è una foto che li vede vedi che molti di questi portano del metto del metto adrian francese il metto francese il metto francese qui siamo il paese che vedi è Ausonia guardando verso Roma Ausonia è un paese a picco sopra la valle del Garigliano dietro dietro al paese lì giù c'è il fiume Garigliano la valle se vai a destra vai verso Cassini se vai a sinistra vai verso Minturno davanti c'era questo monte qui il Monte Famera il Monte Famera e anche le colline vicine erano tenute da un miscuglio di divisioni di feriti di gente stanca macinate le avevano messe qua perché e chi ci arriva qua sopra e dove vanno quelli noi ci mettiamo qua qua ci sono le trincee ci sono state una volta qua sopra ci sono le trincee tedesche ancora visibili non ci non passa nessuno non passa nessuno e questo dove lo metti questo è il gommier con la sua Jalabà uno dei quattro modelli di Jalabà è un po' diverso però l'elmetto non è più quello perché loro usavano l'elmetto il brodi l'elmetto americano della prima guerra mondiale non è quello inglese è quello americano loro erano armati degli americani avevano lo Springfield tutta la buffetteria che vedi le armi leggeri erano tutte una giacca tipica loro si chiama Jalabà è un costume tipico delle genti del Maghreb che l'hanno utilizzata sul campo di battaglia non ti so dire il motivo perché fatto sta che ad un certo punto i furieri delle varie divisioni andarono a comprare al souk le Jalabà per darle ai soldati anche agli ufficiali e divenne la loro figura caratteristica io ne ho avute due di queste Jalabà sono di una lana pesante che tu non te lo puoi neanche immaginare pesano l'idea di Dio una cosa impressionante ovviamente ci combatti l'inverno restare dove vai fai la sauna dentro però è l'abbigliamento distintivo di questi qua dei Goumier i polacchi qui vediamo già i polacchi arrivano cominciano a prendere posto alle parti di acqua fondata a Valerotonda i ufficiali dei Goumier erano sempre francesi gli ufficiali dei Goumier al 90% sì ma soprattutto erano Piennoir non so se capisci la differenza Piennoir francese gente che era abituata a trattare con questa gente qua perché questi qua non è che tu gli butti una banana e combattono cioè il fatto che alla fine alla fine gli hanno permesso di fare quello che hanno fatto è solo dovuto al fatto che i signori sono stati i signori ufficiali e sotto ufficiali hanno guardato da un'altra parte il famoso proclama di Gioin delle 48 ore non esiste è una bufala inventata probabilmente dai Missini negli anni 60 perché non potevano in generale dire quell'effetto ma sì ma anche se si venne lasciava un documento del genere in giro prima o poi lo beccavano e era finito ma poi se spennava il nome la carriera e invece è diventato maresciallo di Francia poi è diventato maresciallo 1 perché anche loro ancora il grado maresciallo pare che è in disuso però formalmente non è abolito è stato diventato maresciallo poi dopo tu pensi che lui divenne anche capo della Nato alla fine in quegli anni però litigò con De Gaulle perché lui aveva essendo un africano in tutti gli effetti un bien noir litigò con De Gaulle perché lui aveva molte simpatie per i golpisti che non volevano i gruppi di destra che non volevano la guerra in Algeria ma d'altronde ormai aveva anche l'età per andarsi in pensione siamo il giorno dello sciacallo di Forsyth bravo bravo bel film bel film è piena maresciana come si chiama in generale non mi sono viene in nome però ho capito ho capito bene poi come hanno fatto hanno fatto lo stesso quello che che se proclama o non proclama hanno fatto lo stesso capito come generale era bravo tatticamente Joenne forse era l'unico che aveva detto era l'unico che subito ai tempi del Belvedere aveva detto lasciate perdere Cassino e quando passate qua cioè tra i generali alleati era uno dei miei cioè alla fine alla fine hanno usato le sue idee le hanno fatto passare da un'altra parte che non era Cassino nella valle del Galiliano lì e lui ha sfondato ci hanno sfondato i polacchi i polacchi arrivano eh scusa i polacchi arrivano occupano la zona del Molise di Venafro occupano la zona di Valle Rotonda acqua fondata tutta quella zona lì Santeria Fiume Rapido e vanno all'assalto dalle colline mi fermo un attimo però qui ci stavano anche gli italiani a combattere sulla Gustaf in una zona molto particolare che si chiama Prate di Mezzo non so se l'hai mai sentito parlare Prate di Mezzo sì io qui ci andavo trent'anni fa a fare Scirafondo io ci sono andato una trentina d'anni fa Prate di Mezzo è un posto no una decina d'anni fa ci sono andati mi sembra che sta sopra San Biagio Saracinisco sopra sopra Atina sopra San Biagio sulle colline queste queste sono le montagne c'è un pianore questo è Abruzzo e tu sali a parte c'è un pianore ma allora se sali sopra questa è la parte alta dei piatti di Mezzo dove io andavo a fare Scirafondo sono posti bellissimi questi sono alpini nostri che hanno combattuto lì hanno combattuto contro gli alpini tedeschi peraltro e hanno anche conquistato il Monte Marrone in una collina in una montagna che stava lì vicino volevo dirlo perché dice ma gli italiani ecco gli italiani stavano qua i polacchi e le povere polacche terribili qua si fanno massacrare appunto che sono costretti ad andare a prendere gli autisti i cuochi i portantini i crittografi perché si immaginano persone su persone tra morti e feriti ne avranno tantissimi e il cimitero polacco è giusto che stia lì ancora morti i polacchi assalto polacco ti faccio notare che questa colonna che vedi di muli morti di cui uno qua giù si vede ancora vivo è la Kevin Sheerode i tedeschi ovviamente avevano capito che esisteva questa benedetta Kevin Sheerode e la bombardavano con i risultati che vedi il 18 di maggio come ho detto prima in la pattuglia del tenente Gubriel i tedeschi si sono ritrati i paraglioni tedeschi se ne sono andati di malavoglia pure entra questa pattuglia dentro la Monte Cassino e non trova più nessuno soltanto un gruppo di tedeschi feriti con un loro ufficiale con un loro medico e praticamente ufficialmente qui finisce la battaglia di Cassino ancora fotografie polacche tu ce l'hai presente nell'ingresso Pax della Pazia se tu superi quell'ingresso Pax c'è questo lungo scalone questo qua la bandiera polacca che sventola sulle rovine e il soldato che suona il loro inno il loro silenzio in onore dei morti in contemporaneamente mentre i francesi e gli inglesi stanno sfondando anche loro sopra alla foce del Garigliano e sulle monti aiunci i canadesi gli inglesi sono nella valle dell'Iri e questi sono canadesi in realtà strano vedere una casa semintatta guarda la granità molto probabilmente esiste ancora non so dirti dove è stata fatta questa foto i tedeschi cominciano ad arrendersi ne sono tanto contenti anche se vedere le loro facce non mi sembrano tristi questo è un ponte di barche perché i tedeschi avevano fatto saltare in aria tutti i punti normali sul Garigliano questo è il Garigliano Castelfort bombardato da un carro Wolverine M10 americano la colonna tedesca macinata alle porte di Esperia che vedi là dietro questo è uno dei posti della linea busta più fotografati della seconda guerra mondiale se tu vai sopra le pagine della Volturno e Cassino c'è un articolo di Alberto Turinetti De Piero che si chiama i rottami fumanti e vi spiega tutto quello che è successo qua qui c'è stato un macello peraltro super fotografato perché sono stati prima bombardati la colonna tedesca prima bombardata dall'artiglieria francese poi dopo quando i francesi avevano sgombrato con i bulldozer buttato qua di lato come vedi tutto il materiale tedesco che era sulla strada è arrivato il fuoco di controbatteria tedesco Ponte Corvo l'ingresso di Ponte Corvo da parte delle truppe francesi perché Ponte Corvo in realtà la parte centrale della cittadina è stata liberata dai canadesi però il fiume Liri che sta poco più avanti di questa fotografia qui faceva dare dimarcazione tra i due corpi l'armata distrutta pure sì sì Ponte Corvo era già stata distrutta prima perché cercarono di colpire il ponte sull'Iri ma non lo beccarono mai spianarono la cittadina quindi Ponte Corvo noi non abbiamo l'immagine dell'ottocento io non ce l'ho tu è molto ricostruita Ponte Corvo il centro sopra io foto ne ho ma ci sono state una sola volta appunto un paio di volte è tutto rifatto è tutto rifatto allora questo è l'avanzata nella valle dell'Iri partendo dalla costa da Anzio poi dopo tutto tutto il corpo d'armata tutta la quinta armata che si sposta praticamente gli inglesi e i neozelandesi sulla parte alta Frosinone vedi qui al centro gli inglesi e i gumi e via dicendo questo è un problema l'abbiamo visto prima la valle la linea Zenger che era la linea dopo quella di Cassino praticamente correva da Piedimonte San Germano fino a Esperia per fartela breve una delle caratteristiche era che aveva veramente questa aveva dei bunker di cemento armato erano stati costruiti a diversità di quella dei bunker delle postazioni intorno a Cassino questa qui è una torreta di un Pantera dove dentro di uno di queste ci stava l'Herbert Fries famoso della Ritter Cross dove gli ufficiali tedeschi negli anni 70 scattavano attenti come vedete però è stata colpita e questa è un'altra torretta Fries stava qua Fries non stava in questa torretta stava in una più in alto a destra più in alto a sinistra questo paese che si vede è Piedimonte San Germano ecco il risultato del tiro di pezzi di anticarro tedeschi su la torretta di uno Sherman qui siamo davanti ad Aquino quelle case che vedi là dietro dietro a questo cacciacar di Marder stiamo nella piana ad Aquino certo l'ingresso delle truppe indiane al paese di Arce praticamente stanno a tre chilometri da casa mia certo Frosinone Frosinone l'arco Sant'Antonio questo posto lo stavo io ci ho insegnato un anno a Sant'Antonio vicino alla provincia a dove insegnavi? dove insegnavi? no qui ho insegnato un anno all'istituto di servizi sociali no perché io qua invece questo fotorafo alle spalle di questo fotorafo c'è l'Accademia di Belle Arti la mia scuola l'Accademia di Belle Arti sta sulla destra e sopra sta dietro a questo sta dietro a questo guarda io ho fatto le fotografie ieri e oggi ma c'è il liceo Turiziani sulla cosa qua c'è il liceo Roberto questa scala che vedi qua porta sopra il liceo Turiziani questa palazzina qua è stata finalmente aggiornata adesso è tutto diverso qua questo palazzo che vedi qua è stato buttato giù e sarà fatta una strada che gira intorno però questo è l'Arco Sant'Antonio poi ci sta la porta questa è il Prosinone è bel bene il Prosinone più avanti di quella fotografia c'è il cinema c'era il cinema no no c'è ancora mi sembra il cinema Nestor il cinema Nestor bellissimo e allora sì è bello il cinema Nestor facciamola breve lasciamo tutto quello che succede perché qui se non lo facciamo arrivano a Roma i tedeschi si ritirano vengono ripresi da un italiano di nascosto questi due frame sono un frame di questo documentario di fatto da questo ragazzino peraltro che li riprende arrivano sulla First Special Service Force famosa che sarà il reparto che entrerà per Roma per primo entra sulla Casilina qui siamo sulla stazione alla stazione di Centocelle la via che vedete qua sotto è la Casilina il quartello che vedete lì in fondo diventerà famoso eccolo qua diventerà famoso perché non solo in questa foto iconica di Clark ma anche il fatto che Clark lo fa smontare e se lo fa portare negli Stati Uniti è tuttora è tuttora conservato nella scuola militare la cittadella dove lui ha insegnato fino alla sua morte lì dentro c'è un suo museo dedicato a lui nonché anche la tomba sua non so dove sta in che nazione sta in che regione però è una certa eleganza che magro di quanto però insomma poteva poteva benissimo lui poteva benissimo accerchiare le truppe tedesche se voleva invece ha preferito puntare direttamente su Roma poteva andargli a rompere le scatole verso Subbiaco lui doveva entrare a Roma per primo e infatti qui siamo vediamo se riconosci il posto famoso vicino al senato no questa è piazza allora guarda qui su questo questa strada qua via del corso via del corso qua stiamo a cosa siamo davanti siamo a piazza Venezia piazza Venezia questo bar esiste ancora ancora esiste questo è palazzo Doria Panfili la galleria Doria Panfili guarda la folla esultante dopo tutto il periodo eccetera eccetera insomma stiamo per finire e abbiamo fatto le nostre brave due ore il tempo è volato il tempo è volato ma per me guarda ricostruzione ricostruzione alla fine i primi a rientrare nel monastero saranno i monaci abbiamo superato il massimo che il massimo abbiamo fatto un'ora e quaranta come dal Mike di solito faccio un'ora però sono state piacevoli queste due ore anche perché mi hanno portato a Lucchi dove ho vissuto l'infanzia e quindi per me ma tu dove sei nato? io sono nato a Pidonte ma ho vissuto fino a 15 anni a Sant'Ambrogio ho fatto le scuole medie lì il liceo parte liceo Cassino poi l'università Cassino vabbè allora la zona la conosci allora la prima cosa che fece di monaci entrando nell'abbazia è ricostruire almeno una situazione provvisoria per il Santissimo con l'altare e con il tabernacolo per conservare l'ostia sacra perché durante il bombardamento quando uscirono lo portarono appresso per la cultura cristiana è come portarsi dietro il nostro Signore e quindi lo salvarono qui siamo dove c'è adesso la pazzia ovviamente dove c'è adesso il pozzo in piazza nel costo del Bramante questo che vedi questa volta non è nient'altro che la volta del pozzo sotto che è crollata foto a colori di Life mai vista mai vista prima volta che la vedo sto bene ce ne sono mancate che però guarda vedi Life che è alla rovescia è alla rovescia l'ho realizzata io la foto perché nell'originale era specchiata hanno stampata su Life specchiata e io però stavano rimettendo le colonne a posto per ricostruire qua hanno già cominciato qua sono già abbastanza avanti hanno costruito hanno sgombrato quando hanno iniziato la ricostruzione Mauro penso proprio proprio cominciato nel 48 hanno lasciato a 48 notare che perché me ne sono accorto soprattutto per la presenza questa è la scalinata che adesso porta sopra la statua di San Benedetto è a sinistra della scalinata invece nella foto come l'avevano pubblicata a loro era a destra era rimasta in piedi si è rimasta in piedi meno la testa ma se ci fai caso nessuno ci fa caso se vai a vedere la statua sul retro ci sono tutti i segni di proiettili e ci schegge non ci ho mai fatto caso tu ricordo bisogna avere l'occhio fino e tu teni l'occhio ormai allenatissimo ancora Life Dio volendo pubblica le foto ovviamente si tenta di recuperare il più possibile dalle statue e queste probabilmente sono le statue che stavano nel chiostro dei benefattori quello che alla fine della scalinata trovi prima dell'ingresso nella cattedrale opera di recupero degli intarsi salvatici dentro all'abbazia tu non so se mai hai visto gli intarsi dentro all'abbazia guarda di bene ci sono delle cose meravigliose cosa è successo che molti sono andati perduti però alcuni si è salvati quindi il monaco sta ricalcando quello che è rimasto per poi ricostruire però non rubati da qualcuno perché può essere pure che nel corso non lo so sicuramente c'è stato un periodo che lì era aperto a tutti e si portavano via tutto quello dico io gli scalpellini grande opera dove li troviamo più questi dalla Turchia devi andare per trovarli gli scalpellini non sono più umori in Italia anche perché è un lavoro faticoso le campane queste campane qua non è stato un caso che le hanno recuperate subito e le hanno messe perché era importantissimo far sentire il suono di queste campane giù per l'intera valle per il popolo per la popolazione molte cose erano rimaste nell'abbazia i tedeschi non si erano portati via tutto questo è l'archivio è parte dell'archivio perché quello che non era tra virgolette importante è rimasto lì e per fortuna in qualche modo è stato recuperato ma tu pensa che alcune di queste cose qua sono state riconsegnate negli ultimi vent'anni dai familiari dei Reduci che hanno saputo che mi sembra giusto che le hanno riconsegnate l'abbazia è stato ancora insomma di semi ricostruzione qui siamo sulla strada che va al Cimetero Polacco qui è proprio l'interno del cantiere già tutto è laborioso questa fotografia qua io l'ho avuta da Piana delle Orme che ho dovuto chiedere il permesso per pubblicarla perché la direttrice Alda Danzini mi disse mi raccomando questa me l'ha data direttamente la famiglia dell'architetto che ha fatto i progetti mi ha detto e io prima di pubblicare si dice Alda su passare i 25 anni da quando l'abbiamo usata no no usa la usa la eccola qua quindi rara la famosa cappella alla fine viene anche un po' modificata ma come vedete sopra la sua testa la cattedrale comincia a prendere forma e qui è una vista dall'alto della cattedrale di Monte Cassino semi costruita ma già abbastanza avanti questa è sempre foto di Life degli anni 50 no con la valle del Monte Trocchio tutta la valle del Lini verso Sant'Ambrogio e via dicendo l'abbazia di Monte Cassino già abbastanza avanti nello stato di costruzione se ci fate caso solo qua dietro è ancora in Cassino i cittadini cominciano a ricostruire e a ritornare nelle case ovviamente ci sono ragazzi donne e anziani gli uomini o erano in guerra prigionieri morti dispersi ma a capire vienono soltanto anziani donne e bambini e gli alleati che la prima cosa che hanno fatto perlomeno hanno cominciato a sgombrare le macerie questa è una delle chiese principali di Cassino San Antonio o San Giovanni San Giovanni mi sa San Antonio non è questa cioè San Giovanni è quella che sta vicino a Badia no no aspetta è quella è quella che è più giù dove c'è l'incrocio scendendo percorso dalla Repubblica c'è uno slargo ho capito quella chiesa sta vicino al cinema non mi ricordo sta vicino al cinema Marco Baleno sì è bravo lui questa è via via di San Germano non saresti tu quelle macerie che vedete lì adesso sulla sinistra queste sono quelle che adesso sono tutte coperte dalla vegetazione voi non le vedete lì ci vuole l'occhio fino bisogna buttarci la testa dentro e vedi che ci sono ancora tutti i ruderi lì non hanno ricostruito niente sono su queste sono sui lati di questa strada l'hanno ricostruito indovinello chi è questo bello questo è lo Sturm che schutz del Continental dell'Eccelsor Palazzo Yuchi che fu questa è la volta di Palazzo Yuchi una delle volte di Palazzo Yuchi fu centrato e immobilizzato dopo che aveva fatto parecchi danni da un camion da un carro armato neo-gelandese poi ai tedeschi l'equipaggio quando se ne andò lo fece saltare lo minò perché se ci fai caso c'ha tutti i portelli saltati per l'arco dove sta? Piano delle orme ci siamo fatti la barba chissà quante volte con questo noi abbiamo rottamato tutto gli unici tre cari armati tedeschi presenti sul suolo italiano stanno tutti nel museo della guerra dalla pace della guerra di Diego Enriquez a Trieste che va visto non lo sai ci sono state a Trieste ma non l'ho visto non lo so se è aperto o chiuso è un casino è una di quelle gestioni pedestre all'italiana ti sono dentro due marder e un carro come questo e che molto probabilmente vengono dalla linea Augusta è museo della pace della guerra di Diego Enriquez che adesso sta vicino alla casa ma dalla finanza è stata una volta qualche 5-6 giorni a Trieste è bella a Trieste è bella a Trieste sì i fotorefi di Life avevano le macchine con le pellicola a colori il colore rende ma non so non so dire se rende più la dramma lo rende una foto in bianco e nero o una foto a colori sono bel colore sono belle sono belle foto qui ancora un'altra notare il cartello Mine è vero sì qui non ti so dire che zona è è impossibile dire per Piazza Ciano credo che sia Cassino però no è Cassino ma quale zona di Cassino è Cassino ma quale zona di Cassino forse vicino la villa comunale quando tu la guardi può darsi perché l'acqua l'acqua normalmente è là si vede si vede il cifalco si vede il cifalco è il laghetto della villa quello lì probabilmente si vede il cifalco questo è il cifalco questo qua dietro questa è praticamente questa è la villa comunale di sicuro di sicuro votare che le bombe hanno fatto riuscire Cassino sta sull'acqua cioè praticamente dietro ci stava con tre ingegneria che l'hanno fatto bravo bravo perfetto proprio illo le donne di Cassino ragazzi questi qua io non so io farei un monumento a queste donne te nasci veramente mamma mia cosa hanno partito cosa hanno sopportato questi fanno il monumento a Cassino hanno fatto il monumento all'orso Wojtek quello polacco dicendo che questo portava i proiettili ai soldati che combattivano prima linea ma per carità va bene lasciamo perdere guarda ma alle donne no alle donne c'è stato qualcuno che ha fatto una proposta niente facciamo vedere quelle sono c'è che sono stanno cercando di rimettere in sesto le loro case si porta dei sassi in testa ma sono sassi guardate pure la magrezza i costumi ci vorrebbe una storia tutta sua lo sgombro continuo facci caso che qua c'è uno Sherman ribaltato ma hanno detto che quello Sherman sta ancora lì l'hanno costruito sopra Cassino questa è la chiesa di prima questa è la chiesa che abbiamo visto prima praticamente dovrebbe essere il pieno di corso della Repubblica questo ho capito dove siamo il fondo del corso della Repubblica questo è Piazza Ciano questo è praticamente qualsinistra ci stanno le rovine del Continental questa è Piazza Ciano praticamente è l'inizio del corso della Repubblica ho capito ancora una fotografia dall'alto in cui si vede qualche cosa comincia a essere costruita o palazzini questa è la torre campanare della chiesa madre che poi verrà buttata giù ma i Cassinati stavano sfollati o vivevano negli accampamenti erano tutti sfollati stavano in giro spalmati per l'Italia ho capito erano pochi quelli che stavano ancora qua anche se i reduci inglesi uno mi ha detto che loro c'era una donna che viveva in una casa abbandonata in piena Cassino sotto le bombe una donna che era stessa matta una signora che era rimasta lì ho capito Cassino qua cominciamo a vedere qualche casa qualche costruzione dovrebbe essere anni 50 questa cosa qua la vita continua le famiglie tornano come questa questa è via San Germano andando verso il Continental la madre con tre figli a me questa foto mi emoziona sempre è proprio il simbolo della rinascita guarda anche con il mercato questo Sturm è posto davanti alla chiesa di Sant'Antonio a quello che rimane questa è piazza di amare e questa via qui è corso dalla Repubblica qui hanno già cominciato a ricostruire a tirare su qualcosa e c'è il mercato perdite militari abbiamo finito i polacchi sono quelli seppelliti al cimitero sono 1052 i francesi sono 4.345 c'è francesi marocchini algerini non francesi si si qua c'è tutto non c'è la divisione i francesi sono misti però non sono una cosa dato che c'è un altro cimitero a Roma dei francesi non so se questo qui è anche comprende anche loro è stato quello di Venafro c'è quello di Venafro quello famoso quello grande con il minarete e con la chiesa ci sono passato davanti l'altro ieri però ti ripeto c'è un altro cimitero francese a Roma Comowelt tra le varie Comowelt scusami Mauro pure i sudafricani combattevano qui mi sembra che a Cassino sono arrivati dopo sono arrivati dopo c'era l'aviazione infatti nel cimitero del Comowelt ci sono dei aviatori sudafricani ok ultraviolente abbattuti gli usa 3.000 circa ad Anzio questi però ad Anzio ma non so se sono qua questi dovrebbero essere solo la zona nostra quindi da linea d'inverno fino a rapido no no sepolti dicevo i tedeschi la cifra dice 15.000 circa soltanto il cimitero di Caira chiaramente perdite immense gli italiani 130 compreso i morti di Montelungo sono questi sono quelli seppelliti a Montelungo ok tedeschi hanno perso i hanno perso enormi perdi dei tedeschi mi sembra che però prende da Ortona fino a ho capito mi sembra quindi non è soltanto non solo a Cassino quindi pare un po' troppo 15.000 morti a Cassino no no mi sembra che perché non ci sono cimiteri altri ok il cimitero più vicino è quello di Pumezia ma riguarda Anzio ok perdite civili è un terno all'otto perché come ben vedi il dato è come dire ho da 80.000 a 250.000 perché perché tutti i dati nessuno ha mai fatto una cernita nessuno ha mai i dati sono andati persi le famiglie i uomini le donne sono alcuni sono stati polverizzati quindi dire quant'è la cifra questa la falegnameria parliamo la falegnameria e l'abbazia adesso ci arriviamo allora perdite civili a Monte Cassino io parlo dei crani trovati non appartenenti a soldati dentro al monastero però potrebbero essere di più o di meno potrebbero essere di più perché tieni presente che molti durante il bombardamento tra un'ondata e l'altra uscirono scapparono fuori e si beccarono le altre ondate molto probabilmente sono stati fatti a brandelli no capito tu tieni presente che una grotta e le grotte che stavano nelle falde di Monte Cassino verso la piana del lì verso Piedimonte dentro c'erano i civili e quelli crollarono con dentro i morti li hanno tirati fuori 20 anni fa nel molto dopo guerra la falegnameria era quella costruzione che avevo detto che era nel costo del del priore da parte alta quindi questi che sono morti nella falegnameria è perché non stavano sotto stavano praticamente sotto un tetto quindi furono praticamente spazzati via se ne salvarono pochi e la fonte non è che me la sono inventata qua io mi sono risferito a una delle massime fonti Cassinati che è l'amico Emilio Pistilli del centro di documentazione e studi Cassinati cui fanno questi studi da 70 anni e hanno fior di documentazione per dimostrarlo cosa vedere su internet a parte se uno vuole vedere la mia la mia pagina facebook però vi ricordo io non sono presente come Mauro Lottici ma come Mauren Von Lottiken vi so spiegare perché questo è dovuto alla censura di facebook quindi all'io parlo spesso della battaglia però se uno vuole vedere parecchia roba cicciosa il sito è dal Volturno a Cassino questo è il miglior sito mondiale tenendo presente che a gestirlo è l'amico Valentino Rossetti che è un bresciano poi dopo la pagina dell'avvocato Roberto Molle dell'associazione centro studi battaglia di Cassino di cui io faccio parte che ha molto materiale e Roberto è uno di quelli che si ricordano nomi, cognomi codici fiscali di tutti beato lui che ce la fa cosa leggere in italiano questi sono i libri che vi consiglio il grosso tomo di Lomo di Vocavallare Cassino questo è Livio è un tenente colonnello dei Paragautisti che noi conosciamo io e Marco conosciamo sull'Alabazia trent'anni fa per caso e a quel punto è nata un'amicizia ferrea che ancora adesso facciamo conferenze insieme insomma questo libro qua è il titolo da un militare non c'è manca una foto solo cartine quindi è molto tecnico il mio di Marco è il mio di Marco l'ultimo Cassino immagino quello che tengo come? quello che tengo io è quello che c'è tu lì è un libro fotografico è un libro diciamo non pesante come quello di pesante nel senso buono come quello di Livio perché è molto fotografico e con un testo un pochino più scarnito ma se volete un bel testo in italiano anche lui facile è Walter Nardini Cassino fino all'ultimo uovo è uno dei primi libri che questa è l'ultima edizione dalla Murcia ma io c'ho quella che comprai a Roma in una bancarella l'ho usato 40 anni fa questo è abbiamo finito vabbè abbiamo finito io ti ringrazio ti ringrazio se togli la condivisione in modo che mostro la devi interrompere tu la condivisione ecco l'hai tolta la condivisione io ora mostro il libro mostro il libro qui e a fattore telecamera se vedete qui Cassino l'immagine di una vittoria ringrazio Mauro per questa bellissima lezione se qualcuno lo vuole io sono però diciamo chi lo vuole io poi sotto quando carico il filmato su Youtube posso mettere la tua mail se qualcuno vuole il libro no ma fai una cosa mettici il link della mia pagina Facebook il link della pagina Facebook Mauro Mauren Von Lottigen quella che ti conosci Mauro Von Lottigen e così con Messenger mi può contattare se lo volete ve lo posso mandare io con tanto di dedica pensa te ma se no anche a me con amicizia e stima d'Armando grazie va bene io ti ringrazio veramente volevo aggiungere un'ultima cosa sta su tutte le piattaforme online di vendita quindi a Amazon lo trovate lo trovate facilmente lì poi dopo ci mettiamo il link io ora interrompo la condivisione prima su Facebook interrompo la diretta Facebook e interrompo la registrazione e vi saluto vi do appuntamento alla prossima settimana buonasera ok arrivederci grazie a tutti l'attenzione grazie a te soprattutto arrivederci è andata bene che tempo a me è piaciuta a te pure sono scorsi subito il tempo quasi due ore e mezza abbiamo quasi due ore e mezza mi sembra stava perché io ci ho levato almeno un terzo dalle fotografie ero io che intervenivo e ti faccio continue domande ma anche quando faccio qualche volta che faccio la fotografia alle conferenze al pubblico c'è sempre chi interviene ma la curiosità mia è che avendoci vissuto è normale anzi non credo di averti dato fastidio quando ho fatto queste cose no 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 anzi ti posso dire che in certe conferenze mi fanno certe domande che mi mettono basito va bene come diceva Nanni Moretti facciamoci del male Mauro io la trasformo in cosa su Youtube metto la copertina del tuo libro qui perfetto e la trasformo e buonasera e buona cena anche a te grazie dell'attenzione ciao 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 ciao